Io sono il presidente, avrete capito, e quindi ho l'onore e anche l'onere di fare il primo intervento velocissimo peraltro e in un certo momento sono fortunato perché il tempo a disposizione l'ho praticamente già finito e quindi potrà essere veramente velocissimo. Questo è un convegno, diciamo, in Italia è necessario perché è chiaro che qualunque cosa per che fare con i beni culturali in Italia è di enorme importanza da tutti i punti di vista, quindi inutile per lo ripeto. Questo convegno Gennaro l'ha già organizzato un'altra volta, quindi qui siamo alla seconda edizione, come dice anche il manifesto. Devo dire che io spero che sia la seconda e ci sia anche una terza, diciamo, in breve tempo, perché mi pare che susciti un enorme interesse e quindi è, diciamo, un'attività, diciamo, centrale per l'Accademia questo convegno, anche se è breve e forse dovrebbe essere espanso ulteriormente. Naturalmente, diciamo, lo scopo del convegno, l'avete letto, è quello di, diciamo, ricercare di fare interagire le persone provenienti da vari campi e con varie metodologie che cercano di affrontare i problemi relativi alla, diciamo, alla conservazione, anche al restauro dei beni culturali. Sappiamo tutti che Gennaro ha dato un contributo, diciamo, ormai storico da tempi degli affreschi della Basia di Assisi e poi del Camposanto di Ibisa e ha applicato questi metodi, diciamo, di chimica moderna all'analisi dei materiali, delle proteine che apparivano e inutile che ve lo dica io, lo sapete molto meglio di me. E quindi in queste cose è molto più competente di me, ovviamente, e io devo dire che, oltre a, diciamo, avere l'intenzione di comunicarvi l'enorme onore che penso di aver già comunicato dell'Accademia a ospitare questo e la speranza che ne ospiti ben di più. Lo ringrazio ancora e gli passo la parola come chairman. Siamo riusciti ad arrivare a 9.40, quindi, diciamo, il mio compito è stato, diciamo, esaudito senza brutte figure. Quindi lo ringrazio molto e, insomma, come dire, aspetto con ansia di sentire gli interventi. Grazie Gennaro. Grazie. Grazie Presidente. Sì, appunto, come questa è una seconda edizione, soltanto appunto è una seconda edizione che ha un formato leggermente diverso in quanto anche sul suggerimento dell'amico e consocio Vinceo Antonio Sgamellotti, abbiamo pensato di inserire anche degli aspetti innovativi di metodi fisici accanto a quello, mentre per i metodi chimici ci siamo limitati essenzialmente alle metodi che utilizzano la spettrometria di massa. Quindi, diciamo, è un po' monografico l'aspetto chimico. E certamente, appunto, mi pare che anche quest'anno il convegno, diciamo, ha un certo successo e quindi mi auguro di aderire all'invito del Presidente per eventualmente già da ora programmare una terza edizione, vediamo in che maniera e in che modo. Sperabilmente in presenza, tra l'altro. Ah, questo scusate, questo senz'altro, perché io non ne posso più, diciamo. Sto perdendo la vista. Volevo appunto, però, comunque, ringraziare moltissimo i colleghi che hanno aderito a questo invito e con la loro disponibilità e la loro cortesia e direi, appunto, proprio per non perdere tempo, iniziare con l'intervento di Gilberto Artioli. Due brevissime introduzione e presentazione del professor Artioli, il quale è consocio della Società dell'Accademia Nazionale delle Scienze dei Quaranta e professore ordinario di materie geologiche all'Università di Padova. Soprattutto, però, mi preme ricordare un bellissimo volume pubblicato nel 2010, Scientific Methods of Cultural Heritage, pubblicato dall'Oxford University Press. Secondo me è un volume di riferimento per tutti coloro il quale appunto si approcciano allo studio del metodo fisico e chimico-fisici per lo studio dei beni culturali. Quindi direi senz'altro la parola a Gilberto. Prego. Lo so Artioli? Sì, ecco, mi sentite adesso? Bene. Tu ci sei? Sì, sì, mi sentite? Sì, sì, devi mettere in presentazione. Grazie, grazie mille. Grazie dell'invito. Mi discosterò leggermente dall'aspetto conservativo del restauro, ma cercherò di far vedere quanto complesso sia. In realtà ho scelto un pigmento blu perché mi piace, per valorizzare, per capire anche la storia dei materiali che ci dicono molto di come questi sono stati utilizzati in passato. Io mi muovo molto non solo nella conservazione, ma soprattutto in archeologia e questo che questo apparirà dalla comprensa. Allora, nonostante, vediamo un po' se riesco ad andare avanti. Devi mettere in presentazione. In presentazione. Nonostante viviamo circondati dal cielo blu e dal mare, e non mi sto a soffermare del perché Catherine de Raleigh ci fa vedere questi blu, tanto che siamo sul pianeta blu, ho cercato di guardare quando è stato utilizzato per la prima volta il colore blu e con grossa sorpresa, nonostante ci siano una miriade, quello vedremo un po' più in dettaglio, di materiali naturali di questo colore, questa è la azzurrite ovviamente, guardando nei dipinti delle grotte preistoriche dalle prime, 50, 60 mila anni fino, faccio adesso un rapido escursus, ovviamente non mi soffermo, ma non c'è nessuna traccia di blu e quindi nonostante credo che l'uomo preistorico abbia avuto come noi il fascino del colore ed è circondato in questo pianeta blu dal colore blu non lo ha utilizzato per quasi tutta la preistoria. Questo è abbastanza interessante e apro la discussione sul campo perché non c'è una risposta, forse la rarità, forse l'ocra e il carbone sono molto più comuni e disponibili piuttosto che ricercare materiali un po' più complessi, sta di fatto che fino a tempi molto molto recenti non ho trovato assolutamente nessuna raffigurazione che usasse il colore blu. Quando è che cominciamo a trovarlo? Cominciamo a trovare nel quarto millennio avanti Cristo con il lapis lazuli, ci sono una marea di oggetti soprattutto in Mesopotamia, qui vedete dei sigilli, ma soprattutto c'è l'evidenza di un traffico diretto dal badaksha marpiano, che è il luogo chiaro di produzione di questo materiale, e la Mesopotamia dove c'era la richiesta di questo materiale dal punto di vista sociale e antropologico. Quindi in realtà se guardiamo nel mondo antico, cioè lo sviluppo dei materiali, dei pigmenti, come materiali per piccoli oggetti e pigmenti, comincia in Mesopotamia con questo traffico intenso tra l'Afghanistan e la Mesopotamia passando attraverso l'Iran e il Balutistan, e qui sono dove troviamo i primi oggetti in lapis lazuli. Barakshan adesso fa parte soprattutto dell'Afghanistan, anche se quello che chiamano il grande Barakshan sconfina in Tajikistan. Le miniere sono soprattutto quelle di Sarisang, che è estremamente famosa dal punto di vista economico e mineralogico, produce cristalli fantastici, quelle che vedete a sinistra è un'Afghanite e quelle adesso sono lazuriti. Non entro nel dettaglio, sono tutte descrivibili come zeoliti della serie ABC, impirabili a second tridimensionale, ma la loro peculiarità è che in questa regione è abbastanza remota e complicata da raggiungere, affiorano in grande quantità ed evidentemente sono stata la sorgente principale, anzi l'unica sorgente sicuramente, nel mondo antico fino al mondo rinascimentale. Poi hanno cominciato ad essere utilizzate altre sorgenti in Siberia e in America. non troviamo ovviamente quasi mai dei bei cristalli, ma delle masse di lapis, di lazurite mescolate con pirite e calcite in vario modo. Qual è la nascita del fenomeno dell'assorbimento nell'apis? C'è un fenomeno abbastanza complesso che abbiamo una molecola di S3 all'interno di una gabbia luminosilicratica e la sodalite e la lazurite sono esattamente isostrutturali, tranne che abbiamo una piccola sostituzione di calcio nella lazurite e soprattutto lo zolfo che sostituisce il cloro, questo produce l'assorbimento nel blu. essenzialmente la molecola di S3 ha un gruppo puntuale diverso da quello della impalcatura tetraedrica della zeolite, produce delle vibrazioni anomale, soprattutto una struttura incommensurata e delle vibrazioni anarmoniche che producono gli assorbimenti. Sono ampi studi che descrivono l'insorgenza del fenomeno, soprattutto il degrado del colore per effetto dell'ossidazione dello zolfo e della temperatura. In Mesopotamia troviamo un uso fondamentale ed esteso soprattutto nelle alcuni siti archeologici importanti. Si comincia con sigilli e perline per arrivare alle tombe di Ur, stiamo parlando della metà del terzo millennio avanti Cristo, dove il lapislazuli ha un uso veramente sproporzionato insieme all'oro. Vedete acconciature femminili, vedete questo bellissimo montone con il manto tutto di lapislazuli e soprattutto la famosa lira della regina Pu'Abi. Ho trovato anche una foto di Woolley nel momento in cui l'ha trovata, è lo standard di Ur con un uso spettacolare del lapislazuli e dell'oro. Questo continuo, i sumeri per tutto il terzo millennio hanno un uso molto forte del lapislazuli e la grossa concentrazione di oggetti lo troviamo appunto in questa regione. Questo è un altro esempio, nel 2007, bellissimi occhi in lapislazuli della testa di Toro. Che cosa succede? Questo continua ovviamente nel tempo, non faccio tutta la storia di lapislazuli, assolutamente. Cioè, i medici erano assolutamente appassionati e la mostra qualche anno fa a Firenze ha dimostrato la grande passione e fortuna del lapislazuli anche in tempi più recenti. Ma tornando in antico, i due materiali azzuri disponibili nella regione medio orientale, erano il lapislazuli concentrato appunto in Mesopotamia con i traffici diretti con il Balachan e il turchese e questo abbastanza raro, un po' in Iran ce n'è, ma non in grosse quantità. Cosa è successo? È successo che gli altri regni che competevano con quelli sumerici asseri nella Mesopotamia avevano scarsità di questi materiali e hanno dovuto sviluppare tecnologie diverse. Ed ecco che allora in Egitto si sviluppano tre tecnologie per il colore blu. Sono uno la faience colorata in cobalto che imita il lapislazuli e l'altro la faience colorata al rame che imita il turchese. E queste sono le origini fondamentalmente di molti dei materiali che poi si propagheranno per tutto il mondo antico. Qual è l'altro materiale che gli egiziani hanno sviluppato per far fronte alla penula? Beh come vedete ovviamente questo non è l'apislazuli ma questa è un'invetriata della porta di Ishtar a Babilonia. Adesso a Berlino è tutta fatta con invetriate parzialmente al rame ma soprattutto al cobalto per questo blu molto scuro. Quindi è una sostituzione dell'apislazuli ovviamente molto ricercato e costoso con materiali eh fattibili e preparabili nel in loco con eh l'uso del cobalto. Tra l'altro abbiamo analizzato eh eh il cobalto di questa porta e veniva dall'Anatolia nella regione pontica dove ci sono grossi eh depositi di eh rame cobalto. Eh la tecnica delle faianze si sparge poi per eh tutta Europa. Il caucaso. Questa è una bellissima gonnellina in faianze preistorica della Slovacchia. Non entra nel dettaglio di cosa definiamo faianze e e e vetri ma ci sono dei parametri molto eh precisi per riuscire a distinguere quello che normalmente gli archeologi parlano di pasta vetria perché non sanno di cosa stanno parlando ma in realtà parliamo o di vetro o di glassy faianze o di faianze che sono tre oggetti con metodi di produzione e eh distribuzione molto diversi. L'altro materiale molto importante che comincia a essere prodotto in Egitto è l'egifian blu che corrisponde al minerale di cupro di vite. È eh eh un eh silicato eh 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 di rame. e questo permette la produzione ancora in massa di pigmenti estremamente eh duraturi e e e brillanti. Eh la struttura della cupro rivaite è molto interessante anche quando non entra nel dettaglio. Esiste in una dura ma è molto rara ma in realtà è a un certo punto stata estremamente diffusa in tutto il mondo mediterraneo proseguito nel mondo romano e credo che qualcuno parlerà del blu egizio e credo Antonio e successivamente e quindi eh ci dirà qualcosa in più sul sul utilizzo vero. La cosa interessante è che ehm ha delle eh proprietà estremamente interessanti di eh eh luminescenza eh quindi assorbere il campo del l'ubire e mette nell'infrarosso. Quindi con filtri particolari si riesce a vedere benissimo eh il l'egyptian blu eh depositato anche se non si vede eh eh macroscopicamente l'azzurro o non si riesce a rilevare eh con strumenti poco sensibili. La luminescenza permette di rilevare dove c'è eh il blu egizio, la cupro rivaite nel eh eh per esempio in queste terracotte policrome eh 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 toscana eh etrusca. Tanto è talmente sensibile alla luminosità che eh la luminescenza che adesso viene usata come polvere per la rilevazione delle pronte digitali in campo forense e questo è eh un aspetto tecnologico abbastanza interessante. Ancora più interessante è il fatto che c'è una eh doppia nascita di questo materiale eh mentre si sviluppa l'egyptian blu eh quindi la cupro riva il sericato di eh rame calcio in in Egitto eh simultaneamente o quasi simultaneamente in Cina si sviluppa quello che viene chiamato come han blu o han purple eh che in realtà ha la stessa identica struttura con la sostituzione del del eh barrio al posto calcio e che produce degli effetti libri di scienza nel porpora molto interessanti e che eh un eh materiale e che si sviluppa parallelamente in oriente rispetto al blu egizio in nel mondo mediterraneo. Abbiamo quindi eh una pletora di materiali naturali e sintetici che possono dare diverse sfumature di blu eh cinquanta sfumature di blu eh mi piace chiamarle eh e questi sono alcuni dei materiali ovviamente alcuni eh non utilizzabili nessuno userebbe un quante blu al boro eh come pigmento visto che costa diverse eh centinaia di migliaia di euro al grammo al carato scusate eh oppure per esempio eh la cavansite eh o eh abbiamo visto eh la geresiumigite sono rarissimi e impossibili da usare. Altri invece sono stati bellamente usati in passato e li troviamo eh eh nei eh nelle negli artefatti e nei pigmenti passati. Per esempio la ragonite colorata eh blu eh è eh eh non eh impossibile da trovare cioè nei Sardegni, in Cina e così ed effettivamente l'abbiamo trovata come pigmento in ceramiche già nel eh terzo millennio avanti Cristo che è una cosa eh abbastanza interessante e inaspettata nella in in Monticale. Ora eh ovviamente eh davanti a una audience di scienziati mi guardo bene dal spiegare i meccanismi del colore. Ricordo solo che in particolare il blu necessita di un numero di formalismi diversi per eh essere descritto e mi richiamo a Nassau ovviamente che è il padre del dell'interpretazione mineralogica del colore eh che eh descrive le quindici cause del colore e tutte vengono chiamate in causa uno o l'altra per descrivere i pigmenti azzurri che sono eh come abbiamo visto abbastanza rari e abbastanza complessi eh sono quasi tutti quelli eh che individuati in letteratura ehm ovviamente non li descriverò tutti abbiamo visto la burrite abbiamo visto il blu egizio alcuni sintetici e altri naturali eh l'ultramarina viene prodotta grazie a un bando del governo francese nel 1814 per fare eh per sostituire il latislazuli che era estremamente costoso e raro e eh la storia di chi l'ha creato e il perché è anche molto interessante che è stato prima sintetizzato in in Germania ma eh avendo eh il bando francese il premio è stato dato molto spesso trovate questo tipo di evoluzione dei pigmenti blu soprattutto che si per coloro che si occupano prevalenza di dipinti e non del materiale archeologico cioè l'uso dell'egyptian blu nel prima fase ma abbiamo visto che in realtà nasce ed è parallelo al latislazuli eh l'azzurrite per un eh lungo periodo e poi l'ultramarina in periodi più recenti lo smalto blu di cui parleremo e poi altri eh pigmenti più moderni in cui in questo momento non posso occuparmi ma blu di pruscia e blu cobalto eh van Gogh usava blu di pruscia eh un paio di eh blu strani eh di cui non ho il tempo di occuparmi ma uno è il maia blu famosissimo è in realtà un complesso organo eh minerale c'è la molecola di indigotin dell'indigo trovata è stata diverse piante in diverse parti del mondo eh dello stesso eh genere eh che in realtà viene assorbita all'interno di una pseudo argilla che è la paligorschite che ha dei canali non è nonostante sia stata estesamente studiata ehm con quasi tutte tecniche eh a noi disponibili non è ancora chiarissimo se la molecola è realtà entra nei canali o si eh blocchi nei gru superficiali e che comunque crea un complesso estremamente stabile eh sia al tempo che all'acidità e quindi rimane un blu molto vivare eh eh nel tempo un altro minerale eh localizzato è la irinite ha una struttura estremamente complessa risolta su qualche anno fa ma tutte per esempio le pitture romaniche nei Pirenei e nella Catalogna sono fatte di irinite per eh la eh localizzazione e la disponibilità locale di questo eh di questo materiale in realtà come pigmenti per tutto il mondo post romano e eh eh diciamo eh fino all'epoca industriale eh eh si ci si gioca molto tra il lapislazzoli, l'azzurrite e la coprolivaite cioè questo è il triangolo dei pigmenti azzurri che vengono quasi a parte quelli organici ovviamente come l'inda, quel muri, c'è altra roba ma eh nei pigmenti inorganici questi sono quelli eh utilizzati eh adesso non entro nel dettaglio ma questi sono esempi di chiari di eh dell'utilizzo dell'azzurrite eh a volte l'azzurrite ha dei problemi e si trasforma parzialmente in malachite e interagisce anche con i rame con qualche colla e resinati che vengono applicate sui quadri e questo per esempio quadro di Raffaello ha subito ingiurie notevoli perché il manto azzurro della madonna è stato completamente diventato sì è diventato nero è diventato nero sì è un colore che è tutt'altro che azzurro eh questi eh è un caso abbastanza interessante magari Antonio può dirci qualcosa di più ma eh perugino in questo caso ha risparmiato faccio tutta la base con l'azzurrite e poi aggiungendo le il il eh 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 lo strato superficiale di lapislato ovviamente eh ovviamente si trattava di lapislato non ultramarina perché nel 1500 non era ancora stata sintetizzato quello moderno e vabbè io non mi soffermo ovviamente ci sono delle persone nell'audio molto più competenti di me sui pigmenti eh diciamo eh post romani eh eh bellini era un altro fan del del dell'azzurrite mentre invece eh Vermeer era un eh assoluto appassionato del eh eh lapislazzoli e purtroppo anche il lapislazzoli è soggetto a l'ago e in questo caso si vede per esempio eh 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 un un eh uno uno fading eh del del colore eh nel tempo eh il blu perfetto di if twine eh non è altro che una riscoperta di lapislazzoli fatta con tecniche moderne quindi una sospensione ultrafine in eh eh resine eh di in accettato eh la sua ossessione con il blu è abbastanza nota e credo che credo che pitturasse eh quasi tutto di blu eh eh facendone eh una nuova forma di espressione. Bene. Non so quanto tempo mi è rimasto. Devo fare un paio di escursioni. Dieci minuti ce li ho? Grazie sì. Ok. Preparere me troppo. Ventano. Vittu広MO fa il vuovere il crema. Esatto. Ma ormai vittuati. E' tronco. Y. Scopera. Boh. In. in coordinazione ottaedrica e tetraedrica rispettivamente. Sono due casi molto stani di ferro bivalente in coordinazione ottaedrica estremamente distorta che produce un blu, ma ci sono pochissimi casi in letteratura e uno cercherò di parlarne in dettaglio. L'altro è il vanaglio 4 che può produrre ancora in coordinazione ottaedrica delle tinte sul blu astro. Vi faccio vedere alcuni esempi interessanti. Questi sono due esempi di vetri preistorici. Quello a detro è egiziano ed è un vetro rosso prodotto con particelle di coprite all'interno del vetro che essendo sfragato e andando in ambiente ossidante sott'acqua si trasforma in blu. Quindi gli strati di corrosione sono blu. Quello a sinistra è invece un vetro preistorico prodotto nell'unico posto di produzione europea nella fine dell'età del bronzo che è il tesino di Rovigo in Italia ed è un vetro blu in cui il rame viene sciolto nella matrice silicatica e poi con una botta riducente superficiale si provoca la nucleazione di particelle e diventa rosso. Quindi questi sono due casi, un egiziano e uno italiano, tutti dell'età del bronzo, stiamo parlando dal 1000 al 1300 a.C., di vetro prodotto rosso che diventa blu per azione e di vetro prodotto blu che diventa rosso per un'artificiosa produzione superficiale. Queste la coprite nel vetro egiziano e se andiamo in dettaglio a vedere che cosa è successo vediamo che effettivamente già nell'età del bronzo riuscivano a nucleare cristalli di rame in atmosfera riducente dopo aver miscelato il rame alla matrice silicatica e se andiamo ad utilizzare tecniche leggermente più sofisticate andiamo a vedere il singolo cristallo vediamo i cristalli che non sono proprio nanometrici ma insomma erano bravi a controllare fondamentalmente il colore del materiale. Queste sono ovviamente le tecniche che usavano per produrre materiali anche molto più sofisticati successivamente come la coppa di ricurgo che ha i fenomeni di assorbimento in trasmissione e riflessione completamente diversi per effetto plasmonico. Questa è la stessa tecnica che usiamo poi, vediamo comunemente, nelle ceramiche, nel lustro rinascimentale ma anche in maniera molto più moderna nei vetri favorili di Tiffany e di tutto l'art deco anche francese. Concludo con questo esempio abbastanza carino anche perché abbiamo pubblicato ma abbiamo pubblicato credo qualcosa di sbagliato. Allora ci sono questi bellissimi vetri blu nel barocco palermitano. Se voi andate in centro a Palermo, in molte chiese, in chiesa San Francesco e Saverio ma soprattutto nella chiesa dell'Immacolata Concezione, trovate veramente un tripudio di marmi colorati variamente trattati termicamente per produrre colori dall'ocra al giallo ma tutto quello che è grigio e blu in realtà non sono marmi ma sono vetri. Allora sono spettacolari ovviamente. Siamo andati con un carico Giuseppe Montana che lavora giro scienze a Palermo a capire un po' di più l'origine di questi vetri estremamente insoliti. Si tratta proprio di quello che verrebbe chiamato uno smalto, un pigmento smalto anzi avrebbero potuto commerciarlo in tal senso. Però in realtà se facciamo l'analisi è molto interessante perché contiene un sacco di potassio cosa che i vetri di quel periodo non contengono assolutamente ma non contiene assolutamente né rame né cobalto. Questi sono dati in microsondo ma siamo andati alle ultratratratte con la spettrometria di massa e rame ce ne sono 20 PPT e PPB scusate e cobalto ci saranno due o tre PPB qualcosa del genere quindi non sufficienti per colorarlo. Goethe cita questi vetri perché Goethe aveva un interesse anche geologico aveva un caro amico in Sicilia che era anche citato il conte Borce e il conte Borce ha in realtà pubblicato un panfletto molto interessante in cui cita la produzione di questi vetri blu nelle calcare di Palermo cioè durante la produzione della caccia. Siamo andati, alcuni pezzi che Goethe ha preso di questi materiali sono a Weimar al Goethe Museum che testimoniano la connessione siciliana ovviamente di Goethe e l'interesse per questi materiali. Siamo andati nelle calcare palermitane, abbiamo trovato in situ di questi pezzi di vetro quindi è vero che venivano prodotti, quello sotto per esempio è bellissimo c'erano i crostalli di vollastonite che crescono dalla superficie del lime fino all'interno della matrice vetrosa ma è interessante il fatto che noi avevamo imputato il colore blu alla coordinazione appunto distorta del ferro bivalente tramite il Mossbauer e diciamo caratterizzazioni di bulk del materiale e avevamo pubblicato come uno dei pochissimi esempi di vetri blu che non contengono cobalto e rame che è assolutamente vero tranne che recentemente Schmitt mi scrive e dice ma guarda che in Germania nel fiume Eiffel noi troviamo dei pezzettini di roba blu molto simili alla vostra abbiamo fatto un po' di microstupia elettronica crediamo di vedere delle particelle e secondo noi è una decomposizione spinodale e quindi si tratta di un effetto plasmonico come abbiamo descritto in precedenza subito gli ho mandato qualche pezzettino perché in questo momento non abbiamo un tema disponibile e lui mi rimanda dice assolutamente sì infatti come vedi sono in riflessione e in trasmissione colori diversi e se vado ad alto ingrandimento cosa che tu hai visto omogeneo in realtà ci sono particelle intorno alle dimensioni che vogliamo per produrre un effetto di interferenza è interessante è estremamente interessante troviamo sia particelle come vedete povere in calcio in una matrice di sedice sia particelle ricche in calcio in una matrice più povere in calcio e quindi in realtà è veramente un effetto plasmonico adesso dovremo studiarlo un po' più profonditamente ma è una reinterazione del materiale che avevamo già studiato a livello macroscopico ma che in realtà è ancora un ottimo esempio di un nanomateriale prodotto con effetto estremamente pigmentante la natura conosce molto bene il colore blu fatto da nanoparticelle la troviamo in tanti materiali naturali diversi dalle aree di farfalle ai coleteri alle piume dell'uccello anche qua è una decomposizione spinodale ovviamente di materia organica in questo caso ed è un qualcosa che è esploso come cristalli fotonici quando in realtà dal punto di vista mineralogico non è altro che quello che conosciamo benissimo come opale e come materiali che hanno una struttura super molecolare a livello del 500 nanometri che danno interferenza nel visibile come l'opale e io direi che mi fermo qui benissimo grazie grazie molto Gilberto questo escurso sui blu è stato molto molto interessante io suggerirei per quanto riguarda la discussione di dividere in due blocchi facciamo un primo blocco dei tre interventi diciamo riguardanti i metodi fisici e poi un altro blocco riguardanti i metodi tipici e invito a eventualmente a utilizzare la chat per porre domande in maniera tale che poi la dottoressa Trimani potrà rivolgere le domande ai relatori a cui sono rivolte allora passiamo al secondo intervento del professore Antonio Sgamellotti il professore Antonio Sgamellotti è professore emerito dell'Università di Perugia è socio nazionale dell'Accademia dei Lincei e soprattutto appunto mi piace ricordare l'impegno soprattutto di Antonio a livello dell'Accademia dei Lincei era Taccetti prima di Sgamellotti non so se hai invertito oppure oh era Taccetti per me è uguale si può dare benissimo la precedenza di Antonio io non ho non lo so tu l'avevi comunque preparato scusami allora Taccetti allora faccio un rewind il dottor Taccetti è un ricercatore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ed è soprattutto coordinatore e credo ispiratore di questa network dell'INFN sui beni culturali ed è responsabile di questo network e credo appunto che naturalmente lui accenderà proprio al ruolo che sta avendo questa attività del benemerita dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per quanto riguarda i beni culturali quindi prego gli prego di prendere la parola scusandomi per l'inversione che ho procurato assolutamente senza problema allora condivido lo schermo eccoci ora siamo dove si dovrebbe essere in full screen lascio da una parte solo il volume perché ops potrei mi si abbassa automaticamente il microfono allora prima di tutto grazie mille se si abbassa il volume ditemelo prima di tutto vi ringrazio ancora moltissimo per l'invito io cercherò sostanzialmente di fare una rapidissima carrellata su prima però in qualche modo mi presento cos'è la rete di beni culturali MFN? professore non si sente, mi scusi infatti il problema è il volume che si abbassa per conto suo lo tengo a scusatemi e ci tengo allora dicevo l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare ha creato sostanzialmente un network nel 2017 per rimettere insieme tutte le sue competenze nell'ambito dei beni culturali tengo a precisare che noi siamo dei costruttori di strumentazione poi abbiamo, lavorano con noi tantissime persone anche dei conservatori, restauratori che in qualche modo sono i nostri end user con i quali sviluppiamo insieme la strumentazione a partire dalle loro richieste quindi come dicevo il punto focale è che noi siamo strutturati diciamo in laboratori diciamo mobili fissi e laboratori digitali oggi mi concentrerò un attimino sui sistemi XRF farò un paragone anche rapido su quello che si può fare sull'XRF come sta l'XRF quindi l'immagine in fluorescenza X rispetto a altri tipi di diagnostica che si possono fare con gli acceleratori perché sono sicuramente molto importanti tutte e due chiaramente ciascuno dei due ha i propri vantaggi i sistemi XRF sono molto utilizzati sempre più spesso e hanno il vantaggio di essere trasportabili a basso costo potere andare per immagini e di solito riuscire a dare un panorama abbastanza completo della situazione degli elementi tengo a precisare che con questi sistemi noi andiamo a vedere la composizione elementale quindi gli elementi composti nel materiale di cui è composto il materiale allora questo qui ve la passo esclusivamente per farvi vedere allora scusatemi scusatemi veramente questo qui è esclusivamente per farvi vedere la distribuzione delle strutture della rete delle attività che noi facciamo come INFN quindi facciamo sia attività di carattere non distruttivo analisi appunto di di composizione materiali di come sono fatti quindi analisi tipo fisico mettiamo radiografie, tomografie, misure di rapporti isotopici misure di rapporti isotopici in questo caso qui per studio di provenienza per dirne una e questo qui sono analisi tipo distruttivo ve lo dico mentre le prime radiografie, tomografie e analisi con fasci di ioni oppure come si diceva fluorescenze sono completamente non invasive più altri tipi di analisi per esempio datazione ok cioè sono molte le attività che facciamo e tra queste attività appunto la produzione di sistemi per fluorescenza X tipicamente i sistemi per fluorescenza X hanno grossissimo vantaggio che riescono a produrre delle immagini abbastanza ben definite poi c'è da decidere sul tipo di definizione che vuole specialmente e soprattutto la definizione spaziale perché si possono andare da dei sistemi che possono avere sostanzialmente dei pixel sulle immagini di poche centinaia di micron ha dei sistemi abbastanza più standard che hanno dei pixel fatti da punti dell'ordine sub millimetri ci mettiamo la 500-800 micro tipicamente anche per questo noi ci avvaliamo delle richieste che ci vengono fatte da il comparto di conservazione e restauro in particolare abbiamo nel nostro network sia o più più delle pietre dure in cui abbiamo dentro una base operativa e che ci danno molti feedback dal punto di vista di quello che gli serve ma abbiamo anche la penaria reale e sta entrando dentro il network nostro anche l'istituto centrale del restauro questo perché noi sicuramente da un punto di vista tecnologico siamo bravi ma chiaramente quelli che sono gli end user quelli che utilizzano poi questi strumenti insieme a noi sono i primi che ci devono dire cosa serve a loro quindi questi tipi di strumenti questa è una foto per un calibro giusto per dare un'immagine dimensionale riescono a fare scansioni quelli piccoli su come questi su delle zone che possono essere 20 per 30 centimetri quadrati quindi ci sono poi sistemi più grossi che riescono ad arrivare a produrre immagini dell'ordine del metro quadrato questi sistemi hanno il vantaggio che possono essere alimentati anche a batteria quindi possono essere portati effettivamente dappertutto hanno un bassissimo impatto ambientale dal punto di vista della radioprotezione voi sapete che l'Italia ha ricevuto il 27 agosto di quest'anno una nuova normativa sulla radioprotezione che è veramente molto stringente e questo comporta che sostanzialmente sia controllata anche diciamo in maniera molto pesante l'emissione dei tubi X chiaramente questo qui ci ha appesantito la parte del sviluppo però si possono fare dei sistemi che possono essere utilizzati anche in presenza di visitatori che è la cosa che preme a noi andando avanti questi sistemi qua tipicamente se uno va a vedere che cosa offre il mercato sono degli oggetti che riescono ad avere delle risoluzioni energetiche abbastanza buone comprese 315-160 lV che vanno benissimo per l'immagine preciso e sono effettivamente degli oggetti a basso costo che riescono a dare delle buone informazioni su la composizione elementale dell'opera d'arte sotto investigazione sono sufficientemente buoni e performanti dal punto di vista della riproducibilità dei pixel queste sono delle mappe sostanzialmente bianche per vedere come rispondono questi sistemi queste sono fatte da noi ma uno ne trova in commercio moltissimi di questi tipi qua e accoppiano sostanzialmente alla misura degli x caratteristici dell'elemento il fatto di poter fare immagini ora io vi ho messo qui questa piccola immagine dove se vedete in questa zona qua questa qui è una pergamena e che è stata sottoposta quest'area a una scandalizzazione qui abbiamo sostanzialmente l'immagine x che otteniamo questa barra qua sotto viene dal lato dietro della pergamena quindi l'x del materiale sottostante sull'altra parte del foglio sono venuti fuori ma quello che mi permetteva a farvi vedere è che mentre questa immagine qui questa immagine qua la vedete definita d'accordo perché si vede si percepisce occhio si vede bene ma se voi andate a sulla parte 3D cioè andare a vedere qual è il contenuto pixel per pixel di informazione rimarrete sorpresi perché noi abbiamo un contenuto praticamente pixel per pixel di queste immagini qua che da un punto di vista statistico non rappresenta quasi nulla perché qui siamo sempre sotto dell'ordine dei cento ponteggi quindi cioè la potenza ottica di questi sistemi è veramente incredibile anche raccogliendo pochi x dal sostanzialmente dall'oggetto in esame ci riusciamo a formare avere un'idea di quanto c'è sotto quindi sono degli sistemi veramente comodi nell'utilizzo e nel dare informazioni e soprattutto sono sorprendenti appunto perché basta veramente poco per riuscire a tirare fuori delle immagini poi sono tipicamente sono sistemi che sono dotati anche di sistemi di autofocus a bordo questo perché quando andate sulle opere quello che succede vabbè non sempre ciò che uno ha davanti è un piano anzi spesso e volentieri sono soprattutto sono parte di pergamene fogli di libri ok uno si trova in delle condizioni in cui è difficile riuscire a operare per cui questi sistemi mantengono sostanzialmente riescono a mantenere il sistema di spot del fascio e di rivelazione a distanza costante dall'opera in esame e come vi dicevo all'inizio la bellezza di questi sistemi è che li potete portare veramente dappertutto cioè mentre il limite di altre tecniche diagnostiche tipo quelli con gli acceleratori che funzionano meglio con i fasci di oni rispetto ai fasci X sono sostanzialmente intrasportabili quindi non deve portare le opere con questi oggetti qui uno riesce ad andare nelle situazioni operare nelle situazioni più incredibili e anche diciamo più complicate tipicamente vengono usati su veramente tantissimi tipi di oggetti quindi come si parla di manoscritti miniati dipinti su tavola dipinti su tela freschi disegni qualche esempio può essere questo questo qui è la muta di Raffaello cosa si vede qui qui sostanzialmente se uno va a vedere se uno vede il fiocco questa qui è la parte dipinta se uno si va a fare l'immagine sostanzialmente nell'X vede che sostanzialmente sotto questo fiocco ne compariva un altro precedentemente d'accordo quindi si riesce a vedere sotto il dipinto soprattutto la parte diciamo degli elementi pesanti perché ricordiamoci che uno dei limiti più grossi di questi tipi di sistemi che tipicamente riescono a lavorare quelli standard bene potassio poi si può fare tutta una serie di trucchi per cui flussando dell'elio che si riesce arrivare a vedere un pochino anche il sodio ma è abbastanza complicato questo qui per esempio è sempre la muta di Raffaello in questo caso qui uno può avere anche delle informazioni di tipo indiretto perché qui si vede la distribuzione del calcio va bene qui si vede praticamente che sotto la cordicella il calcio viene attenuato mentre se uno va a vedere diciamo l'orlo della veste uno vede che l'orlo e la veste è sostanzialmente trasparente al calcio che vuol dire che questo nero sostanzialmente deve essere un elemento leggero perché possono riuscire a venire fuori gli scaratteristici del calcio quindi quasi sicuramente un nero d'ossa come tipo di pigmentazione nera possono essere utilizzati su disegni questo qui è un crocifisso in questo crocifisso di Raffaello in esposizione ora alla Maruceliana su cui abbiamo fatto un po' di misure in questo caso qui un punto di piombo per la parte di disegno preparatorio ferro negli inchiostri metallogallici sono delle immagini anche molto ben definite molto carine che danno un'idea di sostanzialmente appunto sia della parte preparatoria che poi della parte successiva e sono utili per diciamo tutta la parte ora qui non parliamo di conservazione del restauro ma più che altro parliamo anche di tecniche che vengono utilizzate per cercare di capire qual è stata la tecnica come è evoluto diciamo il la tecnica anche del singolo del singolo soggetto in esame in funzione del tempo quindi appunto qui sono punte che possono essere a piombo o che possono contenere inchiostri metallogallici ferrogallici e si riesce appunto a vedere abbastanza bene la struttura del disegno di come è fatto possono essere utilizzate abbiamo utilizzato anche su fotografie cioè fotografie in questo caso qui queste vengono all'argentina a buenos aires con dove ci sono dei nostri colleghi perché abbiamo una base anche da loro e ce le hanno mandate sostanzialmente queste sono lastre tipicamente di ferro e venivano venivano sostanzialmente impressionate in modalità inversa con materiali tipo argento anche qui sono stati fatti sostanzialmente delle scansioni in questo caso quindi quello che si vede sono il contenuto di argento e iodio che sono praticamente in copia una a uno con l'immagine ottica però per esempio ci sono delle altre sorprese in immagine completamente contrapposta abbiamo trovato immagine inversa anche delle distribuzioni cromaticale io non sono un chimico sono un fisico per cui rilascio alla parte dei nostri amici chimici anche il motivo per cui ci possono essere queste cose però insisto questi sistemi qui riescono a dare una caratterizzazione abbastanza interessante il problema di questi sistemi semmai che fanno pensare che ci possono essere appunto anche degli altri strati sottostanti all'immagine quella che uno vede è che di solito non è che sia così facile e semplice con i sistemi XRF andare a fare due cose la prima parte una quantitativa d'accordo e la seconda parte una stratigrafia voi mi direte sì ma le stratigrafie si possono fare perché uno usa i tubi poli capillari quindi usando un tubo poli capillare opportuno e andando quindi usando dei fasci molto piccoli e uno può cercare di entrare sostanzialmente dentro il materiale andando a sparare da una parte gli X e da quell'altra parte cercando di andarle a vedere col rivelatore esattamente nel punto in cui il fascio c'è generato il problema dei poli capillari è di solito che sono presentano delle bande passanti per cui tagliano sia in basso che in alto le energie disponibili questo fa sì che di solito si possano utilizzare anche in questa modalità ma non siano esattamente diciamo il top per fare questo tipo di misure altro diciamo piccolo problema sono le quantitative se uno vuole fare delle quantitative effettive perché le quantitative cioè i raggi X penetrano nel materiale quindi uno che ha si ritrova con una risposta data da più strati d'accordo gli strati esterni gli strati interni e quindi sostanzialmente uno ha una somma di risposte non conoscendo esattamente la matrice con cui è fatta l'opera è difficile valutare anche gli autoassorbimenti dell'opera stessa sugli X che vengono emessi qui per esempio questo qua che vi faccio vedere ormai è diciamo una foto storica questa qui sono queste sono sostanzialmente delle lettere di Galileo degli appunti di Galileo che noi abbiamo cercato ma tantissimi anni fa si parla del 90 di ricollocare temporalmente andando ad analizzare la composizione degli inchiosti che come sapete a quei tempi bastava spostarsi di 5 km e la composizione dell'inchiostro cambiava in questo caso appunto quello che è stato fatto sono state fatte però con acceleratore delle immagini di maggioritari e minoritari in modo da poter raggruppare periodo per periodo basandosi anche su diciamo lettere appunti datati i vari percorsi che faceva Galileo nel suo tempo l'acceleratore ha un vantaggio da questo punto di vista qua perché quello che permette di fare quello che permette di fare è di riuscire attraverso l'energia del fascio a eccitare quindi variando l'energia possiamo penetrare più o meno dentro l'opera quindi la stratigrafia viene automaticamente al variare dell'energia del fascio di ioni che utilizziamo per la parte della diagnostica quindi partiamo dalla superficie riconosciamo i materiali di superficie piano piano entriamo dentro e riusciamo a conoscere strato per strato quali siano i materiali questo qui avrebbe fatto ovviamente comodo anche in cioè lo faremo per andare a vedere la stratigrafia di queste fotografie fatte su base metallica questo è un altro esempio per quello che vi dicevo prima della stratigrafia fatta con un acceleratore questa è la madonna dei fusi di Leonardo e in questo caso qui uno si stava e si chiedeva uno qual era lo spessore della vernice in questo caso qua uno andava a vedere l'incarnato della mano quindi sostanzialmente quello che si aveva è se aveva piombo e mercurio d'accordo e quindi ha in funzione di energie diverse quello che fa il fascio mi dispiace che è venuta male questo qui questi sono due 8 mev si penetra più o meno nel materiale andando a avere gli spettri caratteristici del layer che è stato in qualche modo investito dal fascio quello che si vede è che andando in profondità quello che si riesce siamo sostanzialmente è lo strato della preparazione quindi piombo d'accordo grossomino per la maggior parte ritornando un po' verso la superficie ricompare piano piano e si alza il picco del mercurio e fino poi a scomparire scompaiono tutte e due quando uno va nello strato della vernice in questo caso quello che uno vede è sostanzialmente stata fatta una stima che fosse tra i 15 e i 25 micron lo strato di vernice altro punto visto che prima si parlava del blu in questo caso il punto analizzato era il mantello della madonna e ci si chiedeva appunto a che cosa fosse dovuto questo colore mentre una risposta che vi può dare un sistema XRF nel caso che sia la fislazzoli quindi uno va a cercare il sodio è sostanzialmente una risposta X che non c'è perché l'energia degli X del sodio e dell'ordine di un keV quindi viene facilissimamente diciamo assorbita in questo caso viene assorbita sicuramente da 15 micron di strato della vernice quello che succede è che uno può usare gli ioni viceversa per fare delle reazioni di tipo diverso tipo la PP primo gamma per cui il sodio investito da un protone di energia opportuna quello che fa fa un si va in uno stato eccitato genera un gamma a 441 keV che viene emesso e che di nuovo indica l'elemento caratteristico che l'ha emesso in questo caso qui il sodio un sistema XRF vi avrebbe dato questa risposta un acceleratore utilizza anche altre tecniche tipo la gamma e a questo punto qui diciamo la risposta è complementare più completa allora qui vi faccio un attimino un confronto con gli acceleratori giusto perché poi vi faccio vedere concludo con una piccola parte di quello che si può fare nel futuro quello che uno vede è che se uno va a vedere come siano gli elementi il problema con la voce Francesco chiedo perdono scusatemi fatemi riprendere ora mi risentite spero va bene? si si dicevo quindi il le sezioni d'urto ops torniamo indietro le sezioni d'urto che si hanno per gli elementi leggeri sono eccezionalmente alte è esattamente un po' l'incontrario dell'XRF dove le sezioni d'urto incrementano con lo z alla quinta dell'elemento quindi un fascio di ioni è eccezionalmente efficiente su tutta la parte degli elementi leggeri anche su la parte degli elementi pesanti ma più sui leggeri è diciamo in qualche modo complementare a un sistema X cioè complementare è una parola grossa perché funziona meglio un sistema fatto con gli ioni anche perché la parte di cui è strano non esiste quindi c'è un fondo nettamente migliore però questa è la per darvi un'idea che sono sezioni tutto molto grandi quindi bastano dei fasci sostanzialmente trascurabili per fare questo tipo di indagine dove questo tipo di indagine si fa concorrenti che sono dell'ordine dei picco ampere decine di picco ampere per delle potenze utilizzate sul campione dell'ordine di 10 micro watt quindi sono di nuovo delle situazioni in cui non esiste diciamo danneggiamento d'accordo i fasci possono essere strati in aria questo è un fascio di protoni da 3 mebb in aria anche questa qui è una foto del passato però c'è nel senso uguale ancora per cui non c'è bisogno di utilizzare particolari precauzioni basta andare col campione sostanzialmente abbastanza vicino per darvi un'idea questi sono circa 13 cm questo pennellino di ioni in fondo uno vede effettivamente il picco brag cioè dov'è che il fascio di protoni ve lo disegno col mouse va a perdere l'energia nella parte finale che è la parte che effettivamente poi è quella in cui viene rilasciata la maggior parte energia quindi per dirne una abbiamo pensato ma questo insieme di nuova centri di restauro è una piccola sfida perché è bello avere un sistema portatile però che magari abbia anche caratteristiche diciamo più simili a quello di un acceleratore quindi grosso modo cercare di fare un acceleratore portatile va bene con chiaramente un acceleratore se uno riguarda il footprint un acceleratore sta parlando di diciamo migliaia di metri quadrati tonnellate di peso ma dove tonnellate sono decine di tonnellate e decine centinaia di kilowatt di potenza e quindi l'idea è di creare qualcosa che sia a basso peso basso consumo e ancora la voce ancora la voce basso impatto basso impatto radioprotezionistico e fatto tutto su un sistema aperto che possa essere utilizzato diciamo in maniera abbastanza semplice sia in laboratori ma che possa essere portato anche all'esterno quindi diciamo musei non musei di piccola taglia ma musei diciamo che possano avere la possibilità di un consumo dell'ordine della decina di kilowatt tantomeno non si riesce a scendere questo ve lo dico al momento quindi il sistema è un acceleratore che si utilizza con tre linee con tre link quindi il massimo della semplificazione uno con un portatile e tre link manda avanti l'acceleratore con è basato su questa è una cosa diciamo abbastanza interessante perché voi sapete esiste esiste il CERN esiste attenzione all'audio si lo so scusatemi di nuovo vi te lo perdono ma mi fa vi vedo perdono ma mi fa la risintonizzazione automatica per il rumore quindi dicevo si sta parlando di un torno indietro di un acceleratore basato su gli ultimi sviluppi che hanno fatto al CERN a Ginevra per il nuovo collider quindi noi abbiamo utilizzato sviluppiamo un sistema di accelerazione basato sull'iniettore del nuovo collider sui primi stadi con un'energia di 2 mev per le particelle con un fascio che può arrivare fino a qualche nono ampere d'accordo che va benissimo per fare questo tipo di analisi un acceleratore fatto veramente semplificato quindi provviso una sorgente di ioni un sistema accelerante che è questo qui dentro che vedete basato su RQ e un sistema di diagnostica e questo qui sostanzialmente è l'equivalente di un sistema XRF in cui ci sono però un po' più rivelatori che nell'XRF per la parte X e ci sono anche rivelatori per la parte gamma deve essere maneggevole scusa Francesco non ti sente proprio scusatemi tanto sono arrivato in fondo ora stavo dicendo che fatemi tornare indietro sì che il sistema dell'acceleratore questo sistema quello che vedete è il sistema di vuoto tra quando viene posizionato e quando il sistema può essere acceso passano sei minuti diciamo che questo qui è perché questo è il vuoto per cui la macchina può essere accesa diciamo che questo qui è abbastanza uno impressionante per gli acceleratori standard due è abbastanza compatibile con la modalità e la facilità di utilizzare un sistema X e vi passo anche l'immagine dello stato attuale a cui siamo questo qui è l'acceleratore sono due metri d'accordo si sta parlando di due metri di acceleratore e pesa un pochino siamo sui 300 fili però è su ruote può essere spostato diciamo in maniera abbastanza facile e semplice e diciamo questo qui è il punto di start per un futuro di acceleratori di protoni sempre più compatti che ci permettano in qualche modo di perlomeno essere presenti nei centri di restauro io sostanzialmente penso di aver finito grosso modo il mio tempo mi scuso veramente per il volume che va e viene ma mi dispiace concludo dicendo che i sistemi XRF e immagine sono sicuramente allo stato attuale diciamo veramente un po' per la parte di diagnostica con degli elementi sono veramente performanti sono molto facili da portare hanno una facilità d'uso estremamente elevata dei costi contenuti e spesso riescono a fornire risultati che possono essere utilizzati da restauratori conservatori ma anche storici dell'arte in maniera abbastanza esotiva tuttavia hanno una piccola parte di limiti che consiste sostanzialmente nel non riuscire a vedere la parte degli elementi leggeri però a meno di questo limite per il resto va tutto bene e poi in ogni caso abbiamo non lavoriamo mai da soli ma lavoriamo sempre con gruppi di chimici che ci danno una grossa mano e anche con altri gruppi che lavorano nell'ottico anche perché tecniche X di per sé vanno bene ma complementate con altri tecniche con altri gruppi che lavorano con noi riescono a dare il meglio di quello che ci si possa aspettare vi ringrazio ancora e concluderei grazie grazie molto questa carrellata sul XRF è stato molto molto utile anche per i molti studenti che ci stanno seguendo allora ecco avevo anticipato l'intervento del professor Sgamellotti anche perché appunto impressionato dai blu di Artioli c'è un altro protagonista del blu che è Antonio Sgamellotti brevissimamente Antonio è molto noto appunto per in qualche maniera aver creato questa attività del laboratorio mobile del MOLAB è professore merito dell'università di Perugia è socio nazionale dell'accademia dell'incei e soprattutto mi piace sottolineare ricordare l'impegno che Antonio da quando lui è stato eletto socio dell'accademia dell'incei ha svolto per il rilancio di quello gioiello che è la villa farnesina dell'accademia dell'incei e tra l'altro appunto penso che ci illustrerà alcuni risultati ottenuti proprio recentemente prego Antonio grazie Gennaro e condivido sto condividendo lo schermo ecco dicevo grazie all'amico Gennaro per questo invito e il tema del mio intervento è il rinascimento dell'antico di Raffaello il crionfo di Galatea e la loggia di amore psico e un po' di nuovo un omaggio che vogliamo fare a Raffaello che è stato fortunato dal punto di vista del successo in vita sfortunato per essere morto così giovane molto sfortunato per quanto riguarda le celebrazioni del cinquecentenario della sua morte perché è capitato in piena in piena covid e quindi sono avute delle iniziative che si sono aperte e si sono riduce e così via quindi questo in qualche maniera è un omaggio a Raffaello e un omaggio anche a Villa Farnesina in cui si trovano a pian terreno le due splendide loggie la loggia di Galatea e la loggia di Amore Psico questa è una abituta aerea della Villa Farnesina che si trova a Viale La Longara di fronte a Palazzo Corsini che è la sede dell'Accademia dei Licei e la Villa Farnesina è la sede di rappresentanza della Villa Farnesina vedete era una villa suburbana è sulle rive del Tevere che ha causato grandi problemi nel corso del tempo e qui vedete l'ingresso nord della villa stessa che era l'ingresso da cui si entrava al tempo di Raffaello poi successivamente questo ingresso è stato spostato nel lato sud da cui si entra attualmente è una villa rinascimentale costruita all'inizio del XVI secolo tra il 1506 e il 1512 il committente proprietario era il ricchissimo banchiere Agostino Chigi il Magnifico il banchiere dei Papi e l'architetto era il senese Baltasare Teruzzi è stata proprietà dei Chigi fino al 1580 poi acquistata dal cardinale Alessandro Farnese da cui il nome di Villa Farnesina Villa Farnesina la piccola Villa Farnese per distinguerla dalla villa dal palazzo Farnese che si trova dall'altra parte del Perere e che oggi è sede dell'ambasciata di Francia è stata poi proprietà dei Borboni dall'inizio del 1700 e poi passata al loro ambasciatore di Ripalta nel 1864 dal 1927 appartiene allo Stato italiano che la data inizialmente all'Accademia d'Italia e poi donata all'Accademia Nazionale di Lincelli di cui come dicevo è la sede di rappresentanza ha uno splendido giardino del tipo di Orpus conclusus con molte specie di agrumi che sono una trentina di specie diverse di agrumi a destra vedete anche una specie molto particolare nota di agrume nota come la mano di Buddha e questi sono i due personaggi importanti Agostino Chigi notate il ritratto di Agostino Chigi e le caratteristiche somatiche che poi ritroveremo in un diviso del simbacione del piombo e Raffaele andiamo a parlare della loggia di amore psiche che era la loggia di entrata in cui dal giardino si entrava in questa loggia nel cui soffitto era affrescato c'era dei fiori una cornice di fiori e frutti i cosiddetti pestoni vegetali era un nuovo modo di concepire l'architettura in maniera tale che dall'esterno si entrasse dall'esterno del giardino si entrasse direttamente nella villa nella loggia di amore psiche in cui continuava il giardino stesso affrescato di pestoni vegetali che sono opera di uno degli alunni della bottega di Raffaello che è Giovanni Poi ci sono dieci pestoni e dieci pennacchi scusate che riportano ecco li sto facendo vedere che riportano la storia di amore psiche in qualche maniera rappresentano l'amore contrastato nel caso della favola di Apleio del dio amore con la bellissima psiche contrastata da Venere che però si concluderà in maniera felice con il matrimonio che va di pari passo con l'amore anch'esso contrastato del committente Agostino Figgi con Francesca Orbeasi una bellissima dama veneziana ma di origine non nobile quindi per questo contrastava il matrimonio stesso accanto ai dieci pennacchi ci sono quattordici vele ve le faccio vedere alcune queste sono vele in cui sono rappresentati i putti con gli attributi dei degli dei dell'Olimpo nella sommità della volta ci sono due finti a rassi a destra il 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 concilio degli dei e a sinistra il banchetto non si alle e come dicevo la storia rappresentata è la storia di Amorepside di Apodezio questa andiamo a vedere come la bottega di Raffaello lavorasse il maestro Raffaello progettava il tutto dava però poi ai suoi bravissimi artisti della bottega il compito di descrivere le scelie stesse e questi artisti erano delle persone molto importanti da Giulio Romano a Giovanni Daudine esperto di frutti e animali quello che ha fatto i festoni vegetali tra l'altro i festoni vegetali di cui abbiamo appena parlato sono costituiti da oltre 150 frutti e piante che rappresentano una grande biodiversità che arrivava da Roma all'inizio del Cinquecento pensate che ci sono rappresentate anche i primi frutti provenienti dal Messico appena 15 anni dopo la scoperta dell'America ci sono le zucchine il mais e quindi in qualche maniera è anche la prima rappresentazione della vegetazione che veniva dal nuovo mondo dicevo Raffaello era il progettista e controllava tutto possiamo dedurre il modo con cui lavorava questa bottega andando a vedere le giornate dell'affresco stesso le giornate sono trecentocinque e pensate sono state così ben progettate che in pratica non ci sono pentimento sapete che nel pentimento nell'affresco si doveva raschiare la parte di intornare rintonacare e ridivigere qui vediamo le giornate di due finti razzi sono rispettivamente 22 e 21 non ci sono naturalmente come dicevo pentimenti ma anche nell'intero ciclo di trecentocinque giornate ci sono appena non li chiamerei nemmeno pentimenti dei piccoli ripensamenti non li chiamo pentimenti perché la bottega gli artisti non hanno dovuto raschiare hanno dovuto semplicemente cambiare all'istante alcuni dettagli e uno dei pentimenti riguarda l'acconciatura di venere in questo pennacchio di venere e cupido in cui vedete l'acconciatura continuava era più lunga era coperta da azzurrite e questo lieve cambiamento è stato scoperto nel momento in cui è stata rimossa questa azzurrite all'inizio del 1900 in cui i restauratori pensavano che fosse una sovraemissione mentre in realtà era azzurrite originale di Raffaele lo stesso l'altro piccolo cambiamento l'abbiamo trovato noi utilizzando la fluorescenza della GX che come appena ci ha fatto vedere Francesco è in grado di andare oltre lo strato superficiale e quindi vedete che qui c'era una spiga in più nel certo di Venere nel pennacchio delle tre delle tre idee come ripeto se pensate che nel grande numero di giornate ci sono solo questi piccoli cambiamenti potete ben immaginare come il progetto fosse ben definito da Raffaele lo stesso andiamo a vedere i colori della loggia naturalmente i colori della loggia i pigmenti utilizzati sono pigmenti piuttosto adatti alla fresco stesso pensate che la loggia sia di Moretzige che la prossima loggia che vedremo di Galatea erano aperte quindi esondazione di tevere vento e quindi direi che è un miracolo se gli appestiti si sono conservati in maniera così buona e hanno fatto un'inservazione del tutto accettabile dovuto all'uso di materiali propri naturalmente per i bianchi usava carbonato di calcio per i neri usava diversi neri sia di origine vegetale che di origine animale terre e ocre quindi pigmenti a base di ferro cinabro vermiglione per i rossi molto accessi interessanti sono i blu l'isodio usava lo smalto il cosiddetto smaltino il smalto più 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 azzurrite e molto molto raramente il costoso ultramarino lapislato li usa soltanto nelle vesti della dea dell'eccellenza giunone la moglie di giore per quanto riguarda il cielo Raffaele ha usato uno strato di smalto molto molto ben compatibile con la pesca stessa ma con uno strato di azzurrite data a secco o quasi completamente a secco che naturalmente nelle condizioni sia basiche della situazione sia dovuto all'ambiente vento acqua e così via ha subito un grosso processo di degrado andando a finire non solo a malachidi ma soprattutto a ossi miliani e in orlite diventando nero per cui c'è stato un restauro di Carlo Maratti nel 1693 94 che ha rimosso il nero dell'azzurrite e ha accentuato lo smalto che costituniva il primo strato originario di Rafferlo stesso tra l'altro voglio sottolineare come questo intervento di restauro sia stato fatto ad opera d'arte essendo un restauro dei tempi attuali secondo le concezioni attuali utilizzando rispettando completamente la grande artista Rafferlo usando materiali reversibili nel caso in cui dovesse essere ritoccato la cosa più interessante riguarda oltre l'uso della malachite e delle terre verne riguarda pigmenti gialli di origine preparati dall'uomo stesso troviamo negli affreschi della loggia di amore psiche tutta una serie di gialli contenenti piombo stagno e antimono con diverso rapporto di piombo e stagno fino ad arrivare a la assenza dello stagno e a giallo il cosiddetto giallo di un che è un antimoniato di piombo e questo è il primo uso di questi pigmenti artificiali gialli fatti in affresco erano noti nella tecnologia delle ceramiche del vetro ma per la prima volta un secolo prima dell'uso che avranno poi nel nel XVII secolo nell'Iapreschi usato da Raffaello e della sua bottega soprattutto per definire in maniera molto veritiera frutti e animali che gli artisti conoscevano ad esempio Giovanni Daudine perché facevano parte della collezione dell'artista ma non erano conosciuti dal visitatore quindi c'era la necessità di rendere questi con colori non usuali di rendere un esercizio diverso grado di maturazione di tutti stessi naturalmente nel definire il cartone a dimensioni 1 1 per riprodurre la fresco stesso Raffaello ha usato dei modelli come il sì modelli per diverse figure per esempio vedete qui Venere e giunone che sono chiaramente ottenute con lo stesso modello così come in quest'altro caso nel concilio degli dei Marte e Mercurio sono ottenuti con lo stesso modello ed anche nel banchetto non non ha queste tre idee sono chiaramente ottenute con lo stesso modello questo serviva a rendere riproducibile anche il lavoro ottenuto a più mani ma la cosa interessante è che alcuni di questi modelli erano stati utilizzati da Raffaello nel Parnaso nella stanza delle signature in Vaticano affreschi di alcuni anni prima degli affreschi della di Amore che significava che Raffaello aveva un preparatorio di modelli che conservava e che poi riutilizzava nelle diverse occasioni stesse la tecnica esecutiva è naturalmente la tecnica dello spolvero come potete vedere in questa in questa immagine e la tecnica dell'incisione sia diretta che diretta sfortunatamente non è rimasto nessuno dei cartoni uno a uno che erano o stati utilizzati da Raffaello stesso sono rimasti dei dei disegni preparatori e quindi vediamo un esempio di come Raffaello lavorasse faceva inizialmente uno schizzo a penna poi rifiniva il disegno stesso lo stesso soggetto a gesso e poi naturalmente lo riportavano da Raffaello stesso vedete come dallo schizzo al disegno cambi l'impostazione come sia più accentuato in carattere psicologico di psiche che si trova a confronto di Venere e come questo sia poi riportato nel pennacchio della Prenna Nel corso degli studi che abbiamo condotto in collaborazione con l'Istituto di Scienze e Tecnologie Informatiche di Pisa in particolare con i ricercatori Eliana Siotto e Giampaolo Palma abbiamo messo appunto una loggia virtuale digitale su cui è possibile navigare come se vedendo quindi gli affreschi a distanza di qualche centiglio come se fossimo proprio in cima a un po' di giro stesso qui vedete il sito sia in inglese che in italiano su cui è possibile navigare nel web e nello youtube in cui c'è oltre che la lingua inglese e italiana anche la lingua cinese perché questa loggia digitale ha viaggiato ampiamente in Cine passiamo passiamo adesso alla loggia di Galatea vedete Polifemo di Sebastiano del Piombo e il Pionco di Galatea e questo rappresenta all'epoca siamo intorno al 1512 l'amore di del committente Agostino Chigi per Margherita Gonzaga che era la figlia del duca di Mantua che però era ridottante a sposare una persona non nobile come era Agostino Chigi che vedete raffigurato nel Polifemo mentre Galatea sta probabilmente andandosene senza dare la risposta positiva che Chigi si aspettava per quanto riguarda il malgrimato Sebastiano del Piombo è un pittore veneziano arrivato alla corte di Agostino Digi nel 1712 e vedete l'azzurro della vesta del Polifeno è chiaramente un azzurro di Gavislazzoli mentre è già evidente che l'azzurro utilizzato nella Galatea nel cielo e nel mare è un azzurro più tenere ceruleo andiamo a vedere più da vicino la Galatea il punto di Galatea ci sono anche le dimensioni e naturalmente la prima cosa che è stata fatta qui è un'immagine anche per quanto riguarda la Galatea ci sono poche giornate senza nessun pentimento quindi vedete in alto la diciamo l'impronta qui del poggiamano dell'artista stesso mentre qui è il contrassegno del posizionamento del cartone da parte del Raffaele perché il Fionfo di Galatea è un'opera autografa di Raffaele lo stesso e naturalmente la prima come abbiamo visto dall'intervento di Francesco Cacciotti la prima cosa che abbiamo fatto è la mappa XRF direi che questa è una delle mappe forse più grandi che siano state pubblicate vedete questa bellissima immagine non è il Fionfo di Galatea visto da Andy Warhol ma è la mappa così come risulta dando il colore blu a rame il rosso al mercolio il verde al ferro e il grigio al calcio vedete che il mare nel cielo c'è molto rame quindi uno spettro di riflettanza in cui confrontiamo lo standard del blu egizio perché è subito venuto il sospetto che questo potesse essere anche se sospetto che doveva essere confermato perché era incredibile che Raffaella avesse riusato il blu egizio vedete che si ha un'ottima corrispondenza tra lo standard e il il cielo sia per quanto riguarda i massimi e il minima anche per quanto riguarda i flessi mentre per quanto riguarda il mare che è la linea verde vedete che coincide abbastanza per quanto riguarda il minimo ma non coincide con l'altra parte e questo perché accanto come vedremo al blu egizio c'è mescolato un altro movimento a base di rame di cui abbiamo alcuni che vogliamo confermare quindi le proprietà spettroscopiche del biologizio sono state di parte già illustrate è composto da cupro rivaite che è un tetrasilicato di calcio e rame il rame nella coordinazione più due il tetra coordinato subisce un abbassamento di simmetria la coordinazione la configurazione subisce un abbassamento di simmetria per effetti di ampere e questo comporta un'ascissione degli ormitali B che sono responsabili degli aspetti spettrostonici e anche della luminescenza perché è altamente luminescenza con una luminescenza forte e permanente che quando irradiata con luce visibile o ancor meglio con luce nel rosso e mette nel vicinità rosso al 910 nanometri e questo può essere visto sia in maniera puntuale che in maniera a immagine allora andiamo a vedere vedete qui questa è un'immagine puntuale della luminescenza nella sclera degli occhi perché questa è una caratteristica come vedremo che poi è una situazione classica vedete il perfetto la perfetta emissione e qui andiamo a vedere questo vediamo il rame presente sia nel cielo che nel mare questa è la parte visibile e vediamo l'immagine in luminescenza indotta dal rosso e vedete come gli occhi della sclera della galatea contengono proprio e contengono blu egizio questa è una cosa che ci ha molto sorpreso il blu egizio e ci ha anche sorpreso il fatto che fosse contenuto nella sfera degli occhi abbiamo visto durante le poi il proseguire delle ricerche che sono ancora in corso che in tutti i personaggi anche gli animali rivolti verso il visitatore Raffaello ha voluto metterci del blu egizio proprio come una citazione classica qui vedete per esempio il tridone bucinatore questa specie di tromba all'epoca e il suo cavallo vedere gli occhi blu della presenza del rame l'immagine visibile e naturalmente l'immagine in luminescenza in cui è messo il rilievo che sia il il crudone che il cavallo avessero nella sclera della sclera del blu egizio e questo ripeto è una cosa che ci ha molto sorpreso perché chiaramente è una citazione evoluta classica di Raffaello stesso che era ben conscio di stare riutilizzando dopo tanto tempo perché il blu egizio avendo avuto un grande successo nell'epoca classica fino all'epoca romana ha continuato a essere utilizzato in qualche situazione fino all'alto medioevo e poi è scomparso quindi averlo ritrovato in Raffaello è stata una grande sorpresa vedete anche in questo caso il tritone il navigatore come presenti in due egizi lo stesso per quanto riguarda la nereide che ha vigniata vedete la presenza del rame messo in evidenza dalla proscienza da Giggs l'immagine visibile e la presenza evidente della luminescenza nella scuola degli occhi fine quest'ultima immagine anche Palamone che regge l'eredo dei tritoni vedete la scuola degli occhi dicevo è una citazione e anch'io che sono un appassionato di cinema ho voluto fare una citazione così lontana o così vicino che è il tiro del film di Wim Wenders del 1993 che è il seguito dell'altro bellissimo film di sei anni prima dello stesso regista il cielo sovrano Berlino vedete sin dal tempi classici qui siamo nel 580 avanti Cristo la scuola degli occhi c'era l'egizio così come in questo ritratto romano o in questo ritratto del Faione e analogamente per quanto riguarda la Galatea stessa era noto in tempo rinascimentale prima che noi lo trovassimo in Razzello l'utilizzo di blu egizio in tre dipinti uno dell'Ortolano e due del Garofano esistenti nei musei di Copenhagen di Amsterdam e della della nascita di Londra questi sono diciamo dipindi di soggetto religioso quindi fuori del contesto classico vedete la presenza di un blu egizio messo in evidenza dalla luminescenza questi due artisti Portolano e Garofano sono Ferrarese e l'utilizzo è circa 15-20 anni dopo l'utilizzo che abbiamo trovato in Raffaello solo c'è quindi un problema come perché questi tre due artisti hanno riutilizzato anche se fuori del contesto perché Raffaello lo ha voluto utilizzare in un contesto mitologico qual è il famoso trionfo di Galatea utilizzando anche le fonti classiche di Vitruvio le architetture in cui si parla quindi si aprono da questo da questo ritrovamento di Raffaello si aprono un sacco di domande a cui vogliamo dare delle risposte avendo creato un network che chiamiamo BluNet quindi Blu Egizio Egizio Network di storici dell'arte e scienziati per monitorare l'evoluzione e la circolazione di questo Blu Egizio e abbiamo avuto una grande risposta partecipano a questo BluNet oltre 65 istituzioni con oltre 112 ricercatori e faremo periodicamente dei convegni BluNet nel 2022 e così via per fare il conto concludo ringraziando l'Accademia Nazionale dei Licei dal conservatore Virginia Lapenta il team della scoperta di Blu Egizio volevo far notare come sia assolutamente rispettata la parità di genere metà anche noi abbiamo rispettato la parità di genere metà uomini e metà donne e soprattutto anche il fatto che è una collaborazione tra istituzioni pubbliche CNR Enea e istituzioni private come la Bruker e il lavoratorio disponibile voglio chiudere con due notazioni la prima è stata una grande sorpresa ma che dimostra che anche su un artista così ben studiato come Raffaello si possono fare ancora delle scoperte piuttosto inaspettate e la seconda il ruolo che ha adesso la l'applicazione della scienza alla storia dell'arte agli archivari storico-artistici che non è più soltanto un mezzo necessario nel momento del restauro stesso ma direi ha una funzione ermeneutica in quanto può come in questo caso dare delle informazioni dello stesso tipo che si ottengono trovando dei documenti negli archivisti e questo direi che è il fronte più avanzato soprattutto per quanto riguarda le immagini che sono facilmente leggibili da chiunque nel caso dell'utilizzo di queste tecniche e vi ringrazio per la vostra attenzione grazie grazie molto Antonio il percorso blu mi pare che l'abbiamo concluso con questo tuo bellissimo intervento io non vedo nella chat domande quindi forse possiamo ancora proseguire e allora vorrei dare scusa posso farne una io al volo ah certo 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 a parte veramente congratularmi con il relatore affascinante diciamo le relazioni io volevo chiedere a dottor Taccetti perché ad un certo punto mi è sfuggito forse anche per il calo di volume che si registrava se l'acceleratore portatile è allo stato progettuale o c'è già un prototipo non ho capito se quelli erano disegni oppure era una realizzazione allora spero che il volume a questo video questa volta funzioni allora l'acceleratore portatile allo stato attuale si trova a Ginevra sta oscillando tra Firenze e il CERN e è nella fase di test dei power supply d'accordo quindi se tutto va come speriamo purtroppo siamo stati rallentati da questa disgraziatissima pandemia se tutto va come si spera alla fine dell'anno quindi diciamo dicembre perché ci siamo vicini si dovrebbe avere i primi fasci di Ioni e l'idea è di riuscire a portarlo entro la primavera dell'anno prossimo presso l'opificio delle pietre dure e iniziare tutta una fase di test ovviamente insisto i sistemi XRF sono fantastici per la portabilità perché questo oggetto è trasportabile però sicuramente diciamo in un centro di restauro questo oggetto qua può essere molto utile e noi infatti siamo appunto agganciati come dicevo con più di cero di interesse artistico effettivo ok grazie ci sono altre domande appunto ripeto comunque che uno ci si può prenotare ci si può prenotare con la chat per interlocuire con i relatori e allora proseguiamo e appunto ora l'intervento della professoressa Maria Perla Colombini che già è partecipato al precedente incontro quindi diciamo che è una presenza fissa della dell'accademia di questi incontri dell'accademia dei 40 Perla Colombini è direttore dell'istituto di conservazione e valorizzazione dei beni culturali non lo sono più è Costanza Miliani che ora è direttrice dell'ISPC che saluto con affetto c'ho allora un curriculum che non era aggiornato non era aggiornato ma comunque appunto voglio ricordare appunto anche un importantissimo contributo del suo volume organic ma spettrometri in art and archeology che certamente è un testo ormai di riferimento per chiunque voglia approcciare questa metodologia allo studio dei beni culturali Maia Perla ti ringrazio ancora e ti do la parola Grazie Gennaro spero un momento cerco di condividere lo schermo forse condividi qualcosa è venuto fuori si ora si vede si vede si si vorrei vederlo però anche io in presentazione che non mi parte non riesco a vedere con calma qualcosa sta succedendo perfetto non so perché è lentissimo forse perché è pesante bene abbiamo comunque sentito queste interessantissime relazioni dei colleghi precedenti che hanno trattato sia la parte tecnologica ma la parte artistica come ci ha fatto chiaramente capire Antonio ma si sono soffermati sulla parte inorganica di ciò che l'arte o l'arte pittorica ci offre è chiaro che la parte inorganica ovvero i pigmenti sono quelli che danno il colore e quindi sono quelli che prima si percepiscono nel nostro nella nostra estetica tuttavia dobbiamo pensare che questi pigmenti in qualche maniera debbano essere coesi e debbano aderire alla superficie ma non solo l'insieme dei pigmenti più strati di pigmenti danno quello che noi vediamo come colore finale e com'è che si ottiene questa coesione questa adesione ovviamente attraverso l'impiego di quelli che si chiamano leganti cioè materiali organici che ne sono stati utilizzati da sempre appunto per ottenere questo effetto di adesione e coesione dei pigmenti ma questi pigmenti non sono solo pigmenti che stanno sulla superficie in realtà un dipinto è un sistema multistrato molto complesso che vede una diversità e di pigmenti e di materiali organici e tra i pigmenti dobbiamo anche pensare che vengono utilizzati moltissimi pigmenti di tipo organico che danno delle sfumature e delle lucidità alla pittura che sono estremamente belle e particolari beh quali sono questi materiali organici che da sempre sono stati utilizzati proteine oli grassi varie cere naturali varie resine naturali gomme e coloranti organici che provengono sia dal mondo vegetale che dal mondo animale e poi dall'inizio del 1900 una quantità di materiali di sintesi industriali che i pittori hanno cominciato ad utilizzare e quindi a sostituire i leganti naturali e ciò ha portato a espressioni pittoriche completamente diverse vedi avanguardismo vedi il futurismo eccetera eccetera ecco allora perché è interessante andare a vedere quali sono queste molecole e capire quali materiali organici sono stati utilizzati questo ci permette in genere di definire qual è la tecnica pittorica a olio o quant'altro o acrilico ma soprattutto ci interessa perché riusciamo a dare un apporto significativo alla storia dell'arte quindi capire qual è il materiale capire qual è la sua evoluzione nel tempo aiuta lo storico dell'arte aiuta sicuramente nell'approccio di restauro e aiuta anche nell'attribuire un particolare dipinto a un'epoca o a un pittore quando siamo nella pittura moderna e contemporanea i problemi aumentano aumentano perché siamo in presenza di conservazioni difficili di questi materiali perché questi materiali degradano degradano e ancora non conosciamo molto bene i processi di degrado e quindi anche come riuscire a evitare o comunque a fra virgolette aggiustare i danni che come vedete in questo caso vengono prodotti dall'ambiente e dalla fragilità del materiale sintetico utilizzato ecco che allora dobbiamo vedere non solo l'arte nel passato nel presente ma anche nel passato ovviamente se io mi rivolgo all'ambiente archeologico anche qui abbiamo tantissimi materiali organici non solo le pitture rupestri le pitture i dipinti di Pompei di Ercolano e così via ma ovviamente abbiamo tutta una serie di materiali organici che si degradano e che dobbiamo studiare studiare significa alla fine riuscire a capire molte delle domande che ci possiamo porre che ci poniamo insieme agli storici dell'arte e alle archeologi quindi senz'altro conoscere la composizione chimica di questi materiali studiare il loro invecchiamento e la loro interazione con i pigmenti e con l'ambiente ci permette di fornire delle informazioni fondamentali sia per chiarire quali siano le tecniche esecutive pittoriche soprattutto per capire processi di degrado e quindi dare delle indicazioni in fase di conservazione riuscire a capire se un oggetto è un 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 fake quindi un falso riuscire a capire quali sono state le tecnologie nell'antichità per produrre determinati materiali e alla fine tutto ciò ci porta a dare indicazioni significative per i trattamenti di pulizia e per definire le condizioni di conservazione preventiva beh ma come si approccia il problema beh questo qui è un anticipo della seguente tavola di discussione che avremo alla fine di questa mattinata poiché si comincia con quello che vengono definiti con metodi non invasivi e metodi invasivi una bruttissima parola invasivo significa invasione distruttivo distruzione quindi termini sicuramente negativi che spero vengano nel futuro sostituiti da aggettivi meno tra virgolette dolorosi ma l'approccio rimane questo generalmente se io ho una superficie dipinta la prima cosa da fare è avere a disposizione una serie di metodi di imaging e quindi sia iperspetrali che multispetrali e ben vengano le tecnologie pixel che ci ha fatto vedere prima Francesco perché ci daranno sicuramente delle informazioni molto molto specifiche e tra l'altro possono andare a vedere sugli strati successivi di colore e non solo sulla superficie ma una volta che noi abbiamo determinato quali sono essenzialmente i pigmenti e alcune e la possibilità della presenza di alcune lacche organiche ma vogliamo sapere quali sono i leganti ben difficilmente si riescono con le tecniche superficiali anche a definire i leganti dei vari strati pittorici che sono associati a ciascun dipinto ecco che allora si passa a quello che si chiama il metodo invasivo in realtà si dovrebbero chiamare metodi di minimo intervento perché grazie alle tecniche spettrali superficiali noi possiamo fare un campionamento ragionato e prelevare quindi dei piccolissimi frammenti che ovviamente non debbano danneggiare il dipinto frammenti che verranno poi analizzati con una serie in cross section con una serie di tecniche non di tecniche spettroscopiche che in realtà non sciupano diciamo il campione stesso ma alla fine per definire e per collocare spazialmente dove stanno le sostanze organiche dovremo questi piccoli campioni trattarli chimicamente e quindi alla fine non avremo più il campione per questo che vengono chiamate tecniche distruttive ed applicare dei metodi cromatografici e di spettrometria di massa che ci possono far capire da quali sono queste sostanze organiche utilizzate devo far presente che generalmente le quantità che si vanno a determinare in questo ambiente sono quantità molto piccole siamo spesso a livello di tracce poiché il rapporto che c'è tra il pigmento e la sostanza organica è favorevole dal punto di vista della sostanza inorganica quindi quando va bene ci ritroviamo sempre a lavorare con pochi microgrammi di contenuto organico rispetto a un campione che non supera mai difficilmente supera il peso di un milligrammo ecco allora quello che io chiamo il nostro approccio cromatografico e di spettrometria di massa sull'unico campione prelevato che può essere al minimo di 10 microgrammi al massimo un milligrammo io suggerisco sempre di condurre due almeno due analisi di tipo cromatografico e spettrometria di massa questo perché ci permette di avere una visione completa di tutti i materiali che noi dei quali dobbiamo dar conto prima di tutto sarà bene sempre applicare una tecnica in pirolisi analitica ed avere quindi il comportamento termico del campione ma soprattutto avere un fingerprint di tutte le sostanze naturali e sintetiche presenti in questo campione questo ci permette quindi di prendere delle decisioni in funzione dei marker che qui riusciamo a determinare possiamo decidere se è necessario di continuare ad analizzare il campione con altre tecniche quindi per esempio utilizzare la GCMS per identificare tutte le sostanze contemporaneamente tutte le sostanze naturali presenti o spostarci verso l'HPLC in massa se noi vogliamo analizzare il profilo dei trigliceridi dei trigliceridi se vogliamo analizzare le lacche organiche i coloranti organici e certamente se vogliamo avere delle indicazioni come vedremo più specifiche sulle proteine presenti ecco allora volevo farvi vedere come la pirolisi analitica possa dare immediatamente delle risposte utilizzando dei campioni che sono veramente microscopici questo fa parte di un lavoro in collaborazione fatto con la Costanza Migliani quindi tutto il gruppo del CNR e noi la Galleria Nazionale di Roma ha riguardato l'analisi di una serie di dipinti nelle superfici di Giuseppe Grossi e quindi il lavoro era fatto giusto appunto per capire come mantenere questi dipinti che si stavano deteriorando quali erano le migliori condizioni conservative come doveva essere l'approccio di pulitura delle superfici stesse nel nostro caso abbiamo in questo caso abbiamo prelevato questi otto campioni vedete sono stati tutti prelevati sul bordo esterno in maniera da non creare eccessivi problemi sono tutti campioni piccolissimi e questo è il primo risultato significativo questa è la preparazione di questa tela che cosa abbiamo trovato questa è una preparazione industriale una preparazione che in Europa veniva utilizzata intorno al 1950 qui siamo nel 1957 e vediamo che la preparazione essenzialmente è una tela che era inbevuta con della resina acrilica in particolare etilacrilato ma non solo vediamo la presenza di edocarburio alifatici che significa che c'è anche della paraffina ma quello che ci ha sorpreso molto era la presenza dell'esadecano nitrile e dell'optadecano nitrile che sono i marker dell'uovo intero o solamente rosso beh come mai la presenza nella preparazione di questa di questo materiale in realtà abbiamo abbiamo trovato che il che il Giorgio De Chirico nel suo piccolo trattato riporta che è bene utilizzare come primer dell'uovo perché questo fa sì da ottenere una superficie meno assorbente per la successiva stesura dei leganti e inoltre questo rendeva molto più diciamo molto più lucida molto più omogenea la superficie da colorare quali sono i leganti allora utilizzati da dal nostro autore beh abbiamo visto che in realtà è una cosa abbastanza complessa tutti i colori eccetto il nero sono stati dati con una miscela di resine insieme abbiamo resina alchidica di nuovo resina etil acrilato e resina stirenica quindi sono state miscelate delle resine insieme con i colori al fine di ottenere quello che vedete qui nel riquadro ma il nero che cosa gli è successo al nero perché il nero non poteva avere questo tipo di composizione in realtà il nero ci ha dato solo la presenza dell'anidride etalica e degli acidi relativi a un olio il che significa che qui siamo in presenza di una resina alchidica una resina alchidica che a questo punto c'erano venuti ovviamente dei dubbi abbiamo controllato che la resina fosse veramente la resina alchidica sullo stesso campione abbiamo fatto anche una GCMS e abbiamo visto che ci sono presenti tutti che il profilo degli acidi grassi è presente completamente e indica probabilmente la presenza dell'olio di lino che è stato utilizzato per sintetizzare con l'anidride etalica la resina alchidica utilizzata da capobrossi ecco che queste tecniche ovviamente se utilizzate contemporaneamente riescono a risolvere dei problemi di tecnica pittorica in effetti se uno fa prima il profilo pirolitico del campione può dopo applicare una di queste tecniche o la GCMS come vi ho appena detto dove sebbene la procedura sia un po' complicata ma sull'unico campione vi può dare informazioni contemporanee e sulla composizione delle gomme e sulla composizione proteica e sulla composizione delle cere degli oli e così via ma se il problema è quello di determinare esattamente che tipo di oli è stato utilizzato è meglio utilizzare una tecnica in HPLC massa massa lo stesso se io devo determinare la composizione dei coloranti organici è meglio sempre utilizzare questa tecnica e se poi voglio avere delle indicazioni specifiche sulle proteine e sulla loro provenienza i due metodi che vi presenteranno successivamente della professoressa Virolo e la professoressa Sabatini ci fanno vedere come anche nelle tecniche cromatografiche si possa essere non invasivi e non distruttivi utilizzando questi sistemi enzimatici che direttamente a contatto con la superficie possono prelevare una quantità non visibile di proteina e possono darci delle informazioni esatte sulla provenienza stessa della proteina bene tutto questo ovviamente se preceduto da una tecnica di pirolisi può essere applicato in maniera molto specifica di queste tecniche proteome di proteome che vi parleranno successivamente io ho mia intenzione di farvi degli esempi di applicazione di tecniche di pirolisi e HPL scimmasse ecco questo ho scelto questo esempio perché è un esempio molto colorato in realtà che mi piace moltissimo qui siamo a Rimini nel museo di Federico Fellini e con una collaborazione con loro e l'Opeficio per le Pietre Dure abbiamo avuto la possibilità di analizzare diversi costumi di scena che poi sono stati restaurati e posti nel museo nelle migliori condizioni di conservazione possibili in funzione di ciò che abbiamo dato come indicazioni in questo caso abbiamo prelevato dai vari costumi delle quantità estremamente piccole vedete questo qui è un esempio di campione prelevato sono pochi millimetri quindi in realtà pochi microgrammi di materiale ma questo ci ha permesso di fare analisi e in pirolisi e sullo stesso campione in HPLC massa al fino di poter determinare da una parte che tipo di fibra era stata utilizzata per la composizione di questi costumi multimateriali e dall'altra che tipo di colorante è stato utilizzato il in particolare voglio farvi vedere i risultati per il costume della Golden Lady realizzato per il film Casanova nel 1976 questo costume bellissimo multimateriale perché ci sono molti inserti in metallo anche è stato conservato in maniera non ottimale devo dire è stato riusato modificato è stato utilizzato anche per fare delle feste di carnevale pensate quindi quando è arrivato al laboratorio di restauro non era certo messo molto bene era importante quindi capire i materiali come intervenire i materiali allora qui abbiamo prelevato alcuni campioni 11 e questo ci ha permesso tramite la pirolisi di definire immediatamente quali erano stati filati utilizzati abbiamo sia fibre di tipo artificiale quindi la viscosa che ha questo tipico pattern questo profilo pirolitico fibra sintetica il polietilene è facilmente riscontrabile e sul cappello abbiamo trovato che questo è stato fatto in seta questo le dichette piperagine sono particolarmente utili per identificare questo tipo di fibra la cosa molto interessante è stata capire quali fosse il colorante di questo bordo violascio ciò che abbiamo trovato in HPL scimmassa utilizzando lo stesso campione che era stato utilizzato in pirolisi ci ha dato la presenza di questo colorante il crystal violet un colorante ben noto sin dal fine dell'ottocento che si utilizza non solo per colorare le fibre ma anche come inchiostri questo colorante è un colorante ben noto ma è noto anche che l'esposizione alla luce diretta crea un discolorimento un fading di questo colorante e quindi la prima indicazione è stata quella attenzione dopo la pulitura non esponete alla luce diretta questo cappello onde evitare un'ulteriore decomposizione per quanto riguarda il giallo di tutte le altre fibre questo è stato ottenuto con il direct yellow 28 il quale è un colorante estremamente stabile quindi non è particolarmente degradabile alla luce ciò nonostante abbiamo trovato anche dei prodotti di ossidazione ma in prodotti di ossidazione che sono in concentrazione relativamente bassa e quindi non preoccupante in base a queste ritrovamenti sulla materia quindi le indicazioni che abbiamo potuto dare il laboratorio di restauro è riuscito a ottenere questo risultato finale che è un risultato estremamente bello direi dove finalmente questo costume della golden lady può essere ammirato in condizioni ottimali di conservazione se questo è un esempio di come prendere campioni voglio sottolineare il fatto che in effetti il campionamento è un step sempre molto critico perché quando si va a operare su una superficie come questa se io posso prendere un campione da un lato non farò certo nessun danno o poco danno alla superficie ma se io devo campionare qui anche se vado in una zona un poco sciopata chiaramente il rischio è quello di creare un piccolo buco e quindi una piccola mancanza di colore la domanda è si può ovviare a questo stadio e se sì quali sono le metodologie negli ultimi dieci anni abbiamo visto che l'analisi dei componenti organici volatili quindi ciò che viene emesso dai materiali stessi dai materiali storici può dare un'informazione sulla composizione del materiale stesso può dare una essenzialmente molto certamente una fondamentale informazione sull'ambiente in cui il materiale è conservato e vedete per questo codice miniato qui abbiamo realizzato che c'era una quantità di acido acetico piuttosto elevata quindi un ambiente corrosivo su cui stare attenti tuttavia ci sono state delle evoluzioni negli ultimi tempi di questa tecnologia quindi Strelic per esempio ha messo una busta chiusa e quindi ha fatto un'analisi dello spazio di testa dei bocci emessi da questo oggetto definendo poi qual è il materiale di composizione dell'oggetto la professoressa Sabatini e il suo gruppo hanno analizzato la provenienza delle ambre inserendo dei piccoli frammenti anche in questo caso però stiamo parlando di frammenti e con un minimo riscaldamento l'analisi dei bocci dà informazioni fondamentali sulla composizione del materiale ultimamente poi alla Smithsonian Institute la tecnologia è ancora migliorata la tecnologia dell'SPME in quanto si riesce a fare ora una derivatizzazione già sulla fibra in esposizione per cui le concentrazioni degli acidi cardossilici vengono meglio definite e i contenuti determinati ma la mia domanda è stata già da diversi anni è possibile sostituire questo tipo di tecnologia con un'altra dove io possa portare uno strumento di massa portatile all'interno del museo ed avere informazioni analoghe perlomeno a quelle ottenibili con l'SPME e CCMS ebbene stiamo grazie a una collaborazione con l'SRA e gli instruments e ai fondi che abbiamo siamo riusciti a ottenere abbiamo utilizzato questa tecnologia SIFTMS l'abbiamo validata con un metodo confrontandola con un metodo con l'SPME e in effetti grazie alla possibilità di sniffare diciamo tramite questo probe lo spazio di testa intorno agli oggetti ed acquisire per ogni VOC che passa in questo sistema almeno tre spettri di massa siamo riusciti a portare lo strumento nel museo ma cos'è che abbiamo fatto questo questa strumentazione la quale è abbastanza pesante ma portatile permette di generare in situ degli ioni noi utilizziamo essenzialmente gli ioni di tipo positivo questi tre questi vengono selezionati in una massa quadrupolo e questi poi impattano sui VOC che entrano in questo chiamiamoli iniettore una volta che abbiamo ottenuto la ionizzazione dei nostri analiti questi vengono analizzati e rivelati in pratica abbiamo validato il sistema confrontandolo in una camera di esposizione con dei materiali di riferimento noti esponendo una volta l'SPME e la volta successiva il probe del SIFT ed acquisendo per ogni materiale gli spettri di massa con tre ioni positivi che ci permettono quindi di avere una perfetta un perfetto controllo sull'identificazione di ciascun marker che viene emesso e dalle resine naturali e dalle resine sintetiche questo ci ha permesso di correlare i due metodi insieme e di costruire database per ogni materiale analizzato ovviamente il database che stiamo costruendo è ancora in atto tutte aumentiamo via via il numero di materiali di riferimento esponendoli sempre per 24 ore a 25 gradi in maniera tale che poi quando andiamo sul campo sapremo riconoscere il tipo di analita che stiamo osservando il primo stadio è stato con un pezzettino con l'analisi del fondo di un'anfora che abbiamo alloggiato in un vaso di marmellato fortunamente modificato abbiamo esposto il nostro naso su questo fondo su questo fondo di anfora abbiamo aspettato solo tre ore e con nostra grande meraviglia abbiamo ottenuto questi spettri di massa questi spettri di massa che ci informano che in questo in questa ancora il fondo di questa ancora stava emettendo ancora delle molecole tipiche provenienti dalla pesce di pino ci siamo ovviamente non meravigliati perché abbiamo lavorato per questo però entusiasmati di certo perché abbiamo annusato molecole di 4.000 fatte 4.000 anni fa questo ci ha reso forti e quindi siamo andati avanti con la collaborazione col museo egizio e abbiamo e stiamo ancora analizzando 60 oggetti provenienti dalla tomba di Cai Merit e in questo modo abbiamo potuto portare il shift all'interno del museo abbiamo allestito questi 60 oggetti sono stati incapsulati in queste diciamo in queste cose di napolone che portano un setto specifico per far entrare il probe del shift e quindi farli annusare lo spazio di testa qui creato abbiamo lasciato in esposizione per una settimana e questo tipo di oggetti e dopo una settimana nella stanza accanto a quella di esposizione abbiamo fatto le analisi le analisi durano tempi brevissimi perché in poco più di un minuto otteniamo l'acquisizione di tutti gli spettri questo ci ha fatto sì di poter analizzare veramente tantissimi oggetti senza portarli via dal museo ecco l'importanza poi di star nel risultato abbiamo avuto tantissimi risultati incredibili ma quello che io vi voglio far vedere è questo work in progress relativo a queste due mummiette di di uccello sono due mummie piccoline le quali sono state anch'esse avvolte in questi sacchetti e sono state quindi analizzate che cosa si vede una mummia contiene resina entrambe contengono terpeni ma questi terpeni sono diversi tra di loro e sono terpeni in un caso relativi alla resina mastice e nell'altro caso relativi alla pesce di pino questo non ci sorprende di nuovo siamo in presenza di materiali naturali materiali che ci aspettavamo l'altra parte degli spettri ci fanno vedere quella che è la sequenza di proteine animali e proteine animali che però ci hanno sorpreso parecchio perché se vediamo questa sequenza questa sequenza noi l'abbiamo solamente nelle proteine del pesce che ci fa il pesce allora quello che vediamo a occhio è che abbiamo due uccelli il materiale di imbalsamazione sicuramente contiene dei materiali tipici per la diciottesima dinastia ovvero resina mastice e resina pino forse anche della resina benzoima di questo non siamo sicuri e poi il materiale proteine acero non è dal non proviene dall'ucceo ma proviene dal pesce perché c'è stato un errore nell'imbalzomazione oppure il pesce è stato aggiunto proprio perché è un simbolo di rinascita e quindi volutamente aggiunto e per accompagnare questi questi signori nella tomba questo non sappiamo ovviamente dare una risposta di questo genere ci stiamo lavorando con gli archeologi e naturalmente in questo caso in questi casi noi possiamo dire che si può lavorare senza dover prelevare campioni però se attualmente stiamo confermando in realtà tutte queste tutti questi risultati poiché abbiamo avuto la disponibilità di un piccolissimo campione che ci darà conferma di ciò che abbiamo fatto beh io devo dire che questa tecnica è molto produttente può essere utilizzata in sito ovunque tuttavia voglio rimarcare una cosa possiamo avere tantissime informazioni da questa tecnica quindi dalle componenti organiche volatili che vengono emesse dai materiali ma ahimè i materiali ogni tanto possono non emettere ed ecco che allora ritorniamo indietro e dobbiamo riprendere un campione piccolo per quanto possibile se vogliamo dare delle informazioni sulla sostanza organica presente in oggetti così particolari bene io ringrazio tutto il mio gruppo di ricerca perché lavorano con entusiasmo a queste tematiche da molto tempo con me ringrazio voi per avermi ascoltata almeno spero e vi voglio come faccio interrompi condivisione eccomi e voglio aggiungere una piccola informazione che il 2 3 di dicembre a Lucca organizzo un convegno sullo scienziato e la falsificazione spero che alcuni di voi possano intervenire trovate le informazioni sul sito chic dcc.unip.it grazie 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 Perla ci avevi dato appunto due anni fa un assaggio di questo sniffamento che sta portando veramente dei risultati molto molto belli e molto interessanti e tra l'altro ti ringrazio anche per avere un po' introdotto il discorso dell'invasività che poi approfondiremo successivamente ma mi sembra che le tue metodologie rispondano a questa esigenza di chiarire un attimo anche sulla terminologia come stanno le cose ora appunto darei la parola a lei la Birolo ci sta? sì sì ci sei no sapevo purtroppo non è stata bene ma mi pare che sia ripresa perfettamente quindi sono molto felice di presentarla la Birolo è un professore associato di biochimica a un dipartimento di scienze chimiche della Federico II diciamo appunto sei interessata sin da piccola di proteine insomma la chimica delle proteine è poi stato tutto il tema della sua capire scientifica e dieci anni fa ho avuto il piacere di collaborare con lei e far partire questa iniziativa riguardante la proteomica dei beni culturali che siamo stati tra i primi forse i primi in Italia a introdurre che comunque appunto ritrova un consenso eh piuttosto estissimo eh prego lei la di prendere la parola grazie professore Marino spero si veda la presentazione innanzitutto voglio ringraziare appunto per darmi l'opportunità di raccontare quella che è stata il nostro percorso eh comune nella eh nella proteomica applicata al campo dei beni culturali e il la proteomica nasce eh come una scienza applicata a campioni biologici eh ma ed è stata sviluppata per eh per analizzare i campioni biologici ma piano piano si è spostata in campi più ampi tra cui appunto il campo del dei dei beni culturali dell'arte è già stato evidenziato nel duemila e undici come una delle prospettive eh di applicazione della eh della della proteomica e eh io ricordo ancora il giorno in cui appunto il professor Marino entrò eh stiamo parlando del duemila e sei con eh questo lavoro eh del di Carolin Tokarski eh della prima applicazione della eh proteomica della eh dell'LCMS a campioni eh di dipinti e eh praticamente lui venne perché invitato dal professor Sigan Mellotti in qualità di esperto di proteomica a parlare di che cosa potesse fare la appunto la proteomica nel campo dei beni culturali e eh il la partenza è proprio quella di identificare identificare i materiali presenti materiali proteici presenti all'interno dei dei beni culturali bene appunto eh da questo momento nasce la nostra il nostro poi percorso perché eh appunto diciamo a questo punto proviamoci anche noi incominciamo a lavorare eh anche nel campo dei beni culturali applicare le nostre conoscenze di proteomica al campo dei beni culturali e in questa slide rappresento le persone che nel corso degli anni eh ci hanno affiancato appunto a vario livello eh a in questa in questa impresa la principale applicazione quindi la partenza come dicevo è quella di identificare eh eh le proteine presenti in un campione proteico e siamo partiti appunto dai dipinti ma vedremo che la caratterizzazione delle proteine può non essere limitata ai dipinti può essere estesa a reverti archeologici a di qualsiasi genere ovunque noi abbiamo la presenza di un materiale organico che presenta proteine possiamo applicare quindi la nostra metodologia ma siamo partiti appunto dal dai dipinti come nostro test perché appunto i materiali a base proteica che vengono utilizzati storicamente sono stati storicamente utilizzati nei dipinti sono fondamentalmente latte colla con l'animale e albume e cuorlo che sono facilmente distinguibili tra di loro nel momento in cui noi andiamo a vedere quelle che sono le proteine presenti la quindi identificare le proteine per noi equivale a identificare il materiale presente nell'opera d'arte o nel reperto archeologico ma io vi dico anche vi anticipo che questa identificazione consente anche di fare qualcosa in più cioè di identificare specificamente l'organismo vedremo l'esempio del latte che può essere tanto bovino quanto caprino oppure può anche contribuire forse questa la prospettiva più challenging più interessante almeno dal mio punto di vista a caratterizzare uno stato di degradazione o conservazione di un materiale che contenga appunto proteine ma andiamo per gravi appunto io mi piace raccontare le proteine come delle collane fatte da delle perle di diverso colore e di diversa composizione chimica che possono essere anche considerate dei mattoni che avvengono poi utilizzare per quello che è l'universo delle proteine cioè a partire da mattoni comuni si creano delle architetture completamente diverse tra di loro con funzioni diverse e proprietà chimicosissiche diverse banalmente io cerco di semplificare sempre il discorso il metodo proteomico si basa su una semplice spezzettamento di questo polimero lineare in pezzetti più piccoli che poi possono essere analizzati mediante spettrometrina di massa restituendo come in questo caso esemplificativo dove abbiamo una delle mie proteine preferite che è l'alfa S1 caseina bovina rappresentata qua nella sua sequenza aminoacidica abbiamo appunto utilizziamo quello che è un forbice molecolare la tripsina che produce questi questi peptidi che tradotti in uno spettro di massa si trasformano in una serie un set di numeri univoci per sequenza proteica e quindi costituiscono effettivamente un'impronta digitale della proteina cioè non esistono due proteine funzionalmente diverse che abbiano la stessa lo stesso set di numeri quindi lo spettro di massa dei peptidi consente di identificare una proteina in realtà oggi abbiamo degli sviluppi maggiori per cui riusciamo a ricostruire la sequenza comunque questa è l'immagine di un campione che noi dall'inizio abbiamo deciso di affrontare quindi di dimensioni sufficientemente limitate che viene in maniera molto semplice trattato con una soluzione fisiologica di ammonio bicarbonato in presenza di proteina una banale incubazione a 37 gradi overnight ci consente di avere praticamente il campione pronto per l'analisi di spettrometrica di massa questo è il nostro starting point il nostro protocollo base che abbiamo che poi può essere appunto esteso per uno spettro di massa o uno spettro di MSMS che ci consente di avere non solo le dimensioni dei fettivi prodotti ma anche l'ordine con cui gli amminoacidi si sosseguono in questi fettivi danno quindi un ulteriore vantaggio informativo alla nostra analisi quindi il nostro protocollo è di questo tipo ovviamente vi farò vedere l'evoluzione però si parte da questo cioè si fa questa digestione e si analizza per LCMS MS e mi piace portare l'esempio del nostro primo risultato ottenuto appunto in collaborazione con il professor Sgamellotti su dei campioni che provenivano dalla Basilica di Assisi dalla porta della Basilica di Assisi dove appunto fumo in grado di identificare oggi non diremmo in maniera ottimale ci siamo migliorati però all'epoca fu un risultato per noi molto entusiasmante la presenza di latte e di uovo in alcuni di questi di questi frammenti già in questa prima pubblicazione però noi cercavamo di affrontare quello che è il problema della sensibilità dell'analisi quindi cercare di ottenere più informazioni possibili ma anche cercando di essere meno invasivi come diceva come diceva Perla un termine brutto nei confronti del del campione analizzato e quindi già in quel in quel lavoro noi incominciamo a prospettare l'ipotesi di lavorare piuttosto che estraendo il materiale proteico dal campione cercando di fare quello che io chiamo proprio uno shading una la barba al poco di proteina che fuoriesce dalla matrice solida del campione stesso e quindi c'erano appunto i primi i primi esperimenti furono già riportati in quel lavoro dove noi parlavamo appunto di unidrolisi enzimatica perché appunto mettevamo la trepsina ma condotta in fase eterogenea questo perché perché quei pochi peptidi che potevamo tagliuzzare dalla parte esterna comunque ci potevano consentire di avere una identificazione sufficiente della proteina presente i nostri sforzi poi sono sempre andati verso appunto un metodologici diciamo verso un'ottimizzazione del 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 metodo analitico perché l'idea è che comunque più peptidi noi riusciamo a ottenere innanzitutto più affidabile l'identificazione della della proteina ma ci consente poi anche di lavorare in di ottenere informazioni ulteriori appunto tipo lo stato di grado riuscire ad avere delle informazioni sull'organismo di provenienza e quindi ci siamo rifatti a quelle che sono il nostro background di chimici delle proteine andando a ragionare in termini di esposizione dei siti di idrolisi e quindi introducendo degli step in quel protocollo che vi ho descritto banale che vi ho descritto prima che consentissero di avere di aprire la proteina e quindi di rendere accessibili alla tripsina un numero maggiore di questo consentiva quindi di avere un numero di peptidi maggiore e raffinare le nostre tecniche di analisi e questo ci ha portato a degli ottimi risultati su campioni anche molto datati questo anche in collaborazione con il gruppo di Pisa su dei campioni archeologici non più di dipinti dove noi abbiamo introdotto appunto un passaggio con conurea che tende appunto ad aprire la struttura proteica di quel poco di proteina presente nel campione rendendoci accessibile in questo caso la due componenti proteiche di origine diversa perché in questo stesso campione estremamente limitato noi siamo stati in grado di verificare la presenza contemporanea sia di di latte che di collagene e quindi di materiale diciamo organico diciamo diremmo con l'animale ma in realtà probabilmente può essere un materiale proveniente da materiale osseo o comunque di tessuto condettivo l'abbiamo applicato anche a altri reperti di natura completamente diversa abbiamo identificato la presenza di uovo grazie all'identificazione dell'ovalbumina in un inchiostro che proveniva dalle da cumran e quindi questo è stato possibile soltanto introducendo questo step preliminare di apertura della struttura proteica con un denaturante le uova sono state che appunto abbiamo identificato qua nell'inchiostro sono state un po' il nostro problema perché noi identificavamo benissimo latte identificavamo benissimo collagene quindi con l'animale quando avevamo dei campioni che presentavano una matrice a base di uova avevamo sempre qualche non risultati negativi ma non così entusiasmati ancora una volta abbiamo detto ok probabilmente le proteine dell'uovo sono solitamente facili da analizzare come le proteine del latte ci deve essere qualche altro intervento e ancora facendo tesoro della nostra conoscenza di chimica delle proteine abbiamo pensato che ci potesse essere un'interferenza un'inaccessibilità del materiale proteico legata a qualche qualche altra componente presente che abbiamo identificato nella presenza di zuccheri come ce ne siamo resi conto ce ne siamo resi conto facendo un esperimento in cui abbiamo pretrattato il tampione con una soluzione enzimatica che rimuove con una glicosidasi che rimuove il materiale di natura glicosidica legato alle proteine e andando poi successivamente a fare l'analisi invece classica con la cruzina e praticamente facendo introducendo questo step abbiamo di gran lunga ottimizzato questo il nostro il nostro risultato e in pratica quindi quando sospettiamo la presenza di di uovo facciamo questo passaggio sempre che si può fare in continuo sempre sullo stesso campione per rimuovere questa parte glicosidica questo è stato utile per esempio nel caso di un campione preso nel mediterraneo orientale nell'edificio di Telcabri dove siamo stati in grado di identificare la presenza di uovo in questi dipinti del diciottesimo secolo prima di Cristo e non eravamo stati in grado di identificarli in assenza di questo passaggio di deglutosilazione ok quindi il nostro obiettivo come ve l'ho descritto finora è verso una un aumento fondamentalmente della sensibilità della metodologia proteomica però appunto confrontandoci sempre più con il mondo dei beni culturali abbiamo capito che l'aumento della sensibilità chiaramente riduce anche le dimensioni del campione ma comunque siamo in una metodologia che è appunto ancora invasiva e allora abbiamo cercato di ragionare per cercare di limitare l'invasività della procedura stessa e al contempo cercare anche di fare in modo che almeno una parte iniziale del prelievo del campione va in una parte sostanziale potesse essere fatta anche da non da noi insomma che ci potesse essere dato il campione direttamente da analizzare e in maniera anche quello che noi abbiamo detto da una procedura ex situ cioè di prelievo del campione a una procedura in situ cioè direttamente sulla superficie del materiale per fare questo in collaborazione stesso all'interno del nostro dipartimento con colleghi che lavorano con delle con delle proteine con caratteristiche adesive in particolare appunto la professoressa Paola Chiardina abbiamo sviluppato questo metodo che prevede l'immobilizzazione mediante questa proteina adesiva che è una proteina di origine fungina della tripsina appunto su questo frammento piccolino di un supporto di poliessere o di acetato in cellulosa che poi viene posto a contatto sulla superficie del campione da analizzare i peptidi a questo punto vengono digeriti sulla superficie trattenuti dal campione che noi abbiamo dal pezzettino che abbiamo fatto aderire sul campione e poi i peptidi vengono recuperati e analizzati mediante spettrometria di massa inutile dirvi che se ve lo racconto vuol dire che i risultati sono stati soddisfacenti abbiamo analizzato campioni facendo in parallelo il protocollo classico il protocollo con questa tripsina bio immobilizzata e appunto ottenendo dei risultati paragonabili nei due nei due casi questo non ha chiaramente soddisfatto la domanda ok ma è invasivo non è invasivo noi siamo andati a guardare sicuramente invasivo perché i peptidi vengono rimossi dalla superficie però vediamo il risultato poi noi ci siamo basati su un'analisi al microscopio dei campioni trattati prima e dopo con questo metodo e praticamente non abbiamo osservato particolari variazioni quindi è una questione semantica una questione di terminologia lo definiremmo il minimo indispensabile dell'invasività del del metodo è stato utilizzato questo metodo con successo anche su campioni diversi dai dipinti diciamo noi partiamo dai dai dipinti proprio perché oramai abbiamo una tradizione un po' più solida però questo tipo di di approccio è stato provato anche con campioni completamente differenti come appunto oggetti navolio fotografie vestite con albume o anche con con la carta stiamo continuando a sviluppare questo metodo perché appunto una volta che sviluppiamo un metodo è un metodo che va bene ovunque siano presenti le proteine e praticamente come vi dicevo questo è quello quanto gran parte di quello che abbiamo fatto per identificare le le proteine ma vi preannunciavo che in realtà con questi dati con questi esperimenti si può dire anche qualche cosa di più proprio per esempio il caso degli oggetti d'avorio può essere un esempio causante cioè noi abbiamo bisogno di sapere anche quali sono gli organismi di cui sono fatti cioè il materiale organico di provenienza non sempre facilmente individuato quindi noi abbiamo diciamo i risultati sperimentali di un'analisi proteomica che consentono di ottenere informazioni anche sull'organismo di provenienza e l'esempio che mi piace riportare è quello che abbiamo fatto in collaborazione sempre con il gruppo di Pisa nell'analisi delle delle dipinti cioè delle tecniche pittoriche utilizzate per per dipingere le statue giganti dei Buddha distrutte dai talebani nel 2001 e in questo caso appunto siamo stati fortunati nel identificare la copresenza come legante proteico di latte di due origini diverse abbiamo contemporaneamente individuato la presenza sia di latte bovino che di latte capino e questo si può ottenere grazie alle piccole sostituzioni amminoacidiche ma che da un punto di vista analitico sono significative nelle sequenze delle caseine rispettivamente bovina e capino questo tipo di analisi può avere anche un risvolto applicativo diverso ed è quello che stiamo portando avanti per lo studio delle colle animali commerciali cioè il mondo delle colle animali correggetemi se sbaglio si divide in una serie di materiali che vanno comunemente sotto il nome per esempio di colla di coniglio colla d'osso colla di pesce ebbene abbiamo che hanno delle performance che sono di tipo diverso e aspetto e appunto anche e proprietà dei silve soprattutto diverse vengono utilizzate con con finalità diverse ora da chimico per me se ci sono delle performance diverse ci deve essere una differenza chimica alla base e quindi il nostro la nostra curiosità nei confronti di questa di questa diversificazione di di performance ci ha portato a chiedere una serie di campioni commerciali e andarle a caratterizzare da un punto di vista appunto di contenuto proteico per farvela breve per esempio nei campioni di colla di coniglio quello che noi abbiamo osservato è che soltanto in due dei campioni il coniglio cioè il collagene di coniglio era effettivamente presente negli altri casi era invece erano presenti altri collageli di altra origine e questa è una prima caratterizzazione commerciale siamo andati avanti anche in questa storia perché questa si ricollega anche al fatto che io come vi dicevo volevamo noi volevamo contribuire anche a caratterizzare lo stato di conservazione stiamo parlando di composti chimici composti chimici soggetti a modifiche soggetti a ossidazioni a reazioni di diverso tipo e la nostra analisi consente di evidenziare appunto le modifiche chimiche nelle specie presenti proprio partendo anche se è l'ultimo caso che stiamo analizzando le colle animali sono state caratterizzate anche per questo stato di conservazione la partenza invece di questo studio della degradazione dell'invecchiamento è un lavoro che a me è molto caro è stato il primo lavoro in collaborazione con con Perla oramai dieci anni fa e che ha messo in evidenza come una di queste modifiche che oggi è riportata come una dei marker proprio di invecchiamento nelle proteine fosse presente in campioni che provenivano dagli affreschi del cimitero monumentale di Pisa Perla ci diede una serie di campioni in cui noi identificammo e questo era il nostro primo obiettivo la presenza di latte ma anche di colla animale e evidenziamo la presenza di questa modifica chimica che va a carico di due residui amminacidici specifici che porta appunto una variazione di unità di massa questa modifica di diamidazione per esempio se noi andiamo a vedere i campioni di colle d'ossa e colle di pelle diversifica molto i due set di campioni probabilmente cioè molto probabilmente legato al fatto che i trattamenti per ottenere la colla animale da pelli è diverso da quello per ottenerli dalle ossa questo tipo di analisi ma anche di altre modifiche chimiche e lo abbiamo anche applicato a dei campioni di natura completamente diversa mettendo in evidenza la possibilità di differenziare situazioni anche apparentemente simili in particolare abbiamo avuto la possibilità di analizzare i campioni di ossa che provenivano da Ercolano e da Pompei e praticamente le differenze ambientali che si sono poi manifestate nel fatto che in un caso abbiamo solo scheletri in un altro caso invece la il tessuto è stato lentamente degradato nel corso del tempo questi si riflettono anche nel profilo proteomico dei campioni d'ossa e soprattutto nell'entità e nella qualità delle modifiche chimiche che noi abbiamo evidenziato quindi in realtà la metodologia proteomica è una metodologia che si può usare a fini diagnostici chiaramente ma con delle prospettive diverse sia di conoscenza della storia quindi del trascorso diciamo che per esempio un campione oggi che venisse definito antico e che non presenta un buon livello di diaminazione induce un sospetto sulla autenticità del campione stesso per dirvi per dirvene una però può avere anche delle prospettive invece più pratiche più di definizione di condizioni di stato di degradazione e di quindi valorizzazione delle metodologie da applicare per poi un intervento di restato e quindi fermo ringraziando le persone che nel corso degli anni hanno collaborato alla realizzazione di questo sviluppo della metodologia proteomica nel campo dei beni culturali grazie grazie moltissimo Leila questo discursus molto chiaro e anche molto molto utile per quanti ci stanno seguendo e che non sono addentro alla materia darei ora la parola alla professoressa Sabatini professore di chimica analitica professore di chimica analitica al dipartimento di chimica dell'università di Bari ha avuto varie responsabilità nell'ambito della chimica analitica è stato infatti presidente della divisione di chimica analitica della società chimica italiana ed è soprattutto appunto un riferimento importante per la diagnostica dei beni culturali come direttori di un centro dipartimentale che si intitola proprio in questa maniera prego grazie ancora per aver raccolto il mio invito e le do la parola per il suo intervento prego grazie non so se riuscite a vedermi io ho attivato la telecamera si si ti vediamo adesso condivido certo condivido lo schermo ho un attimo che apro questa ok ecco qua vado in presentazione bene vedete chiaramente la le diapositive bene io lo ringrazio ovviamente per l'invito e diciamo come uno degli ultimi relatori ho diciamo il problema di dover tenere vivo il vostro interesse e attenzione però ho il vantaggio di poter sorvolare su una serie di informazioni che sono già state date quindi spero anche di contenere la mia relazione addirittura accorciare i tempi in modo da recuperare un po' di ritardo perfetto 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 il mio il mio il titolo avete già letto i gel per identificazione di leganti pittorici perché identificare i leganti è stato già detto no non c'è dubbio non solo per il restauro ma anche ovviamente per conoscere l'evoluzione delle tecniche dei materiali della storia adattare l'opera d'arte attribuire l'opera a volte l'autore alla scuola le difficoltà che sono note quantità ridotte concentrazione poi ridotta ed elegante nel campione e l'invecchiamento nel quale ho sentito tanto parlare anche l'influenza del pigmento sui processi di invecchiamento il vantaggio è che abbiamo tecniche analitiche appunto estremamente sensibili e allora le metodi utilizzate come sono state già ampiamente citate quindi veramente questa diapositiva della risparmio vi dico solo che appunto le gastrobatografie accoppiate alle spettrometri di massa e a volte è presciuto dello stadio di Pironghi siccome ci ha fatto vedere Perla Colombini nella sua presentazione tutto c'ha vantaggi e svantaggi non c'è dubbio però ecco queste portano sicuramente alla identificazione delle ganti con più o meno difficoltà diciamo recentemente sono state privilegiate alcune tecniche diciamo di chiamate diolizzazione soft e sono il maldi la tecnica maldi e la cromatografia liquida accoppiata alla massa con lo stadio però utilizzando l'elettrospray per la diolizzazione massa o massa massa ovviamente io diciamo non so quanta familiarità voi abbiate con il maldi comunque qui c'è scritto il maldi e l'esi quali sono i vantaggi che forniscono informazioni sulla struttura delle macromolecole intatte cioè non le frammentano diciamo e soprattutto distinguono quindi permettono di distinguere proteine dell'uovo delle colle prodotti a base di latte in miscele eterogenee anche il pretrattamento del campione è semplice e veloce ed è possibile con l'esi un'analisi quantitativa non con il maldi ecco per il maldi infatti lo svantaggio è che ci possono essere interferenze della matrice ma solo nel basso range di massa e l'analisi è solo qualitativa e l'esi è meno sensibile rispetto a parti l'analisi cromatografica è più lunga allora tecniche soft proteine è stato dell'arte su questo sorvolo il lavoro di Tocaschi sono stati già ampiamente diciamo citati sull'imaldi ecco in cosa consiste questa tecnica in realtà su una piastra viene messo del campione ma miscelato con una matrice infatti maldi matrix assist laser desoption ionization e diciamo questa matrice ha il compito di assorbire l'energia del raggio laser trasmettere al campione che viene quindi vedete appunto passa lo stato gassoso ionizzato e come tale viene analizzato questo è uno spettrometro a tempo di volo il sotto riportato una matrice tipica ma insomma questo adesso ha poca importanza e un dettaglio giusto sperimentare noi alcune analisi le abbiamo fatte anche per confrontarci e per confermare se volete i risultati del baldi come appunto questa lc cromatografia liquida con questo tipo di ionizzazione e poi massa massa l'analizzatore di massa impiegato e questo che ho riportato con uno spettrometro di massa a trappola lineare allora il peptide mass fingerprinting perché sia importante e comporta l'identificazione della proteina come ci ha detto adesso la professoressa Birolo e in realtà quello che viene fatto è digerire la proteina e poi quindi su questi peptidi diciamo registrare lo spettromato quindi i peptidi questi insieme di peptidi viene miscelato alla matrice viene messo su queste piastre direttamente analizzato quindi abbiamo delle masse sperimentali dei peptidi poi in una banca dati quello che si fa è di ipotizzare appunto le possibili proteine presente fare una digestione virtuale avere le masse teoriche dei peptidi insomma da confronto arrivare all'identificazione delle proteine è importante in queste banche dati appunto inserire le modificazioni possibili modificazioni strutturali subite dalla proteina non solo durante il progetto il processo scusate di digestione ma anche durante l'invecchiamento e quindi per esempio appunto la deamidazione di cui ha parlato prima la professoressa Abilolo bene allora questo è l'approccio strumentale quindi digestione proteica cioè baldi per individuare e determinare le proteine presenti quindi ci siamo orientati inizialmente verso i legati di natura proteica il punto è questo che vedete io ho preparato questa diapositiva prima ancora che il professor Marino ci invitasse ad una tavola rotonda e cioè il discorso è questo che come è stato più volte detto quando si lavora nel campo dei beni culturali si ha a che fare intanto con oggetti che sono irripetibili poi si ha un'interazione proprio con le soprintendenze restauratori storici dell'arte i padroni i proprietari di questi beni diciamo culturali quindi la necessità di sviluppare un linguaggio comune di comprendere i diversi punti di vista quello che adesso viene chiamato con questa parola contaminazione cioè di contaminarsi prima di cominciare un'analisi allora la problematica ricorrente ecolista cioè con una delle problematiche campionamento sì o no allora se sì vabbè si va verso certe strade anche la professoressa Colombini ha detto ci sono tante tecniche tanti approcci anche complementari è chiaro se il campionamento è no adesso vediamo cosa vuol dire quali strategie io le ho chiamate così vedere ma non toccare e l'altra tocco ma non si vede allora vedere non toccare non toccare ne ha parlato greggiamente anche il collega Taccetti cioè sono strumentazioni di tipo spettroscopico portatili tipicamente di tipo spettroscopico spettrometrie e naturalmente estremamente utili quando per oggetti di dimensioni molto elevate oppure per analisi in situ di affreschi anche per beni che non si possono trasportare perché magari sono estremamente preziosi in questo caso e quindi insomma dovrebbero essere assicurati con cifre assurde allora tocco ma non si vede questo sviluppo di strategie di campionamento vedete qui ho scritto meno invasive e cioè non si sa mai se usare non invasive quasi invasive spero che alla fine arriviamo almeno appunto ad una definizione come si dice univoco o perlomeno da noi riconosciuta allora il problema del campionamento necessario prelevare o grattare minute quantità di strato pittorico non sempre è concesso devo dire a volte anche senza una vera motivazione ma lasciamo perdere abbiamo detto che dobbiamo contaminarci su opere di grande valore questo è veramente a volte proprio possibile strategie di campionamento questo ha portato al sviluppo di strategie di campionamento micro o non invasive qui sono le prime due sono di tipo micro invasive le ultime due sono quelle di tipo che io considero non invasive ma abbiamo detto con tutte le diciamo il distingo che poi faremo nella tavola rotonda per esempio il gruppo di Manfredi appunto ha sviluppato questo film di etilvinilacetato funzionalizzato con resine a scambio ionico con questo estrae proteine anche in presenza di vernici che non è diciamo male e abbiamo sentito ora dalla professora Abirolo appunto questo film di acetato cellulosa modificato con proteine fungine per immobilizzare la cripsina ed effettuare la digestione in situ bene partendo da questi input diciamo ci siamo prefissi che cosa sempre nell'approccio tocco ma non si vede la messa a punto di un campionamento non invasivo vedete che l'ho scritto in corsivo eseguibile in situ direttamente sul campione utilizzando però un gel per la rimozione del materiale di interesse cioè legante proteico nel nostro caso la riduzione dell'area campionata e dei tempi di preparazione l'aumento della semplicità del protocollo in maniera tale che possa essere utilizzato anche da parte di personale non specializzato almeno per la cosiddetto prelivo del campione continuiamo a chiamarlo campione identificazione della frazione proteica in campioni legali ovviamente allora idrogeli e beni culturali qui ci sono una serie di lavori prevalentemente nel gruppo del professor Baglioni che ha messo a punto di questi idrogeli e le applicazioni sono state prevalentemente nel campo della pulitura che voglio dire è un campo di estremo interesse e diciamo i risultati sono davvero diciamo strabilianti ecco questo lavoro vedete riporta i gel chimici innovativi incontrano gli enzimi una combinazione intelligente per la pulizia di oggetti di latte a base diciamo di carta cartacei che sono quelli più difficili da ripulire perché sono insomma estremamente sensibili alle metodologie genericamente utilizzate allora qui viene espresso un concetto che è interessante che appunto questi idrogeli che sono a base prevalentemente in questo caso di polivenilpirolidone e polidroassietilmetacrilato hanno la capacità di fungere da carrier per gli enzimi proteolitici in questo caso laminasi e allora partendo da questo da queste informazioni abbiamo sviluppato un protocollo che vede l'uso del proprio del nano restore questo gel utilizzato cioè quello di cui ho parlato prima che viene commercializzato appunto ormai e il vede il termine nano restore fa capire che viene utilizzato per il restauro noi abbiamo invece utilizzato per la diagnostica quindi abbiamo ritagliato un rettangolino ma in realtà non parlare epipico perché questo foglio ha un suo spessore sia puro di 1 o 2 mm il diciamo 3 per 3 mm viene disidratato poi viene immerso in una soluzione di trepsina quindi carica la trepsina poi viene applicato sul provino sul insomma sull'oggetto da analizzare in questo caso un provino o pittorico e viene tenuto a contatto per mezz'ora quindi mezz'ora di immersione poi mezz'ora di contatto viene quando viene allontanato viene estratto in un'apposita soluzione a volte con diciamo aiutato anche con un va in ultrasuoni e questo digerito triptico viene messo poi direttamente su uno dei pozzetti del maldi per procedere all'analisi ecco sono solo dei dettagli sul protocollo che è stato prepubblicato su questo su tal l'anno scorso come si sviluppa un protocollo sapete meglio di me quindi abbiamo preparato una serie di provini ovviamente con leganti proteici e diversi pigmenti perché appunto anche il pigmento può influenzare diciamo l'analisi e abbiamo lavorato su questi provini freschi invecchiati invecchiati alcuni quattro mesi altri quattro anni avevamo preparato questi provini per altre motivazioni ci sono tornati molto utili in questo in questo caso e qui abbiamo appunto per testare il protocollo per validarlo abbiamo eseguito l'analisi sia diciamo in soluzione protocollo classico con appunto la trepsina in soluzione sia sulla trepsina immobilizzata sul gel e guardate diciamo la durata dell'analisi che è un'ora e mezza in un caso nel caso del gel e i 15 ore nel caso classico questo è il confronto con gli spettro tenuti col maldi nel gel e in soluzione e a destra ci sono le segnali appunto le masse su carica sperimentali e tra li hanno portato in maniera univoca inserendo questi dati nelle banche dati a riconoscimento della appunto questa bullina di siero o bovino con appunto una riduzione incredibile del tempo di analisi abbiamo fatto questo per la caseina con carbonato di calcio la colla bovino con carbonato di calcio il torno d'uovo con blu oltre mare e così via ecco i risultati ottenuti io qui voglio farvi notare che qui c'è riportata all'ultima colonna la percentuale di copertura cioè delle sequenze proteiche che è assolutamente diciamo apprezzabile per i campioni di caseina e di colla guardate invece per l'uovo così come ha messo in luce la professoressa Bill anche noi abbiamo visto che in alcuni casi la copertura era veramente bassa e a volte insufficiente per darci poi come si dice per portarci ad un riconoscimento univoco ecco dell'elegante e allora abbiamo fatto un passo avanti abbiamo effettuato digestione in situ con un doppio enzima tripsina e chimotripsina questo ha migliorato la percentuale di copertura per tutte le proteine ha migliorato la gestione delle proteine del rosso d'uovo il protocollo comunque rimane semplice perché è praticamente identico a quello di prima solo che nella soluzione in cui immergiamo il gel ci sono due appunto enzimi invece di uno l'analisi con il mal di Toff è riportata a sinistra i vari casi tre dei casi che abbiamo analizzato vorrei farvi notare che la copertura delle percentuali copertura delle sequenze di amminoacidi e nel caso della tripsina e nel caso invece del doppio enzima è chiaro che c'è sempre un miglioramento però guardate in quelle dell'uovo diventa tale un miglioramento da portarci con un'identificazione assolutamente inequivocabile bene abbiamo fatto queste analisi non soltanto con i maldi ma appunto per avere delle maggiori certezze anche con le CESI MSMS di cui vi ho parlato prima questo soprattutto quando il rapporto segnale rumore nel maldi non fosse diciamo fosse tale da farci ritenere che valesse la pena avere un'altra analisi di conforto di confronto adesso l'invasività del protocollo messo a punto il protocollo siamo chiesti altera in qualche modo la superficie del dipinto il colore subisce cambiamenti apprezzabili il pigmento viene rimosso cioè questa la rimozione del gel è selettiva rispetto a legante oppure rimuove anche dell'altro il controllo viene effettuato con lo stereomicroscocchio con lo spettrofotometro e anche con la spettroscopia di superficie che poi lasciatevi dire la tecnica che io conosco meglio perché di massa non so tantissimo perché ho lavorato per anni con questa spettroscopia e soltanto negli ultimi dieci anni diciamo mi sono approcciata alla spettrofotometria di massa allora lo stereomicroscopio va bene in questa diapositiva non è molto felice però vi assicuro che non si vede nessuna differenza ma si può anche onestamente rilevare da questo nessuna differenza prima e dopo almeno visibile allo stereomicroscopio cioè la superficie non viene alterata dall'applicazione del gel con l'analisi diciamo colorimetrica qui sono riportate appunto i valori ottenuti e in ogni caso abbiamo visto mai abbiamo notato delle alterazioni differenze di colore appunto nel dominio CL diciamo tutte inferiori a 1 questo delta E delta E quindi assolutamente non apprezzabili ad occhio umano perché sapete fino a 5 pare che non si possa neanche apprezzare visivamente con la spettroscopia di superficie con la spettroscopia appunto cosiddetta XPS cioè X-ray fotoletto spettroscopi che poi è una spettroscopia che utilizza raggi X come sorgente che naturalmente impattano sul campione in un stato solido e penetrano in questo campione però come è ovvio quindi gli elettroni estratti solo se provengono da una zona superficiale riescono a venire fuori con un'energia cinetica che è proprio uguale alla differenza fra l'energia del fotone e l'energia di legame perché non subiscono urti perché questo spessore è confrontabile con il libero cammino medio quindi da questi dall'analisi di queste energie cinetiche si può risalire appunto l'energia di legame e quindi identificare i diciamo gli elementi presenti sul campione ma l'analisi non è solo un'analisi elementare perché può essere un'analisi di speciazione cioè posso dire se ho piombo o piombo 2+, faccio per dirvi oppure se ho carbonio ma che tipo di carbonio è in organico organico con quale tipo di legame CO, CO, H carbonio azoto e così via e da anche un'analisi quantitativa allora quello che noi abbiamo fatto appunto è un confronto tra la composizione chimica superficiale dell'area non trattata cioè non messa a contatto con il gel e quella invece esposta alla digestione con l'enzima tramite questo foglietto di questo piccolo diciamo frammento di gel naturalmente abbiamo utilizzato anche il gel senza enzima e quindi vedete quando ne facciamo abbiamo riportato cosa? è un rapporto azoto carbonio poi quelli diciamo dei pigmenti quindi nel caso dell'aggiurrite alluminio silicio per esempio e nel caso dei campioni che avevano parlato di calcio il rapporto tra il calcio e il carbonio allora se diciamo si guarda questa tabella si capisce che il rapporto vedete poi dei pigmenti non subisce nessun cambiamento invece quello dell'azoto carbonio diminuisce e non solo ma se noi guardiamo gli spettri vediamo che la curva la curva nera quella blu e rossa sono del provino in assenza di gel oppure col gel non caricato con l'enzima quello nero invece è quando c'è l'enzima allo stesso modo nella diciamo nel questo spettro qui a destra vedete anche più rimarcata qui la differenza e questa zona che noi stiamo guardando è quella tipica del carbonio del tipo CO doppio legame è legato all'azoto cioè del legame peptidico quindi c'è mentre tutto il resto dei segnali del carbonio dovuto a schele cioè CH anche contaminazione superficiale non viene diciamo non varia soprattutto facciamo i rapporti perché naturalmente ci può passamento del segnale e il rapporto azoto carbonio diminuisce vedete anche questo sui provini invecchiati questo è un provino invecchiato quattro mesi ma la situazione analoga sono identiche sia in quelli invecchiati anche quattro anni allora quindi c'è viene asportato il legante ma sembra che il legante sia asportato in maniera selettiva cioè non c'è nessuna modifica del pigmento nessuna modifica del colore allora abbiamo potuto applicare questo protocollo campioni reali una pergamena liturgica del XII secolo una statua linea del XV secolo una pala d'altare anche questo diciamo del XVI secolo è un angelo musicante che fa parte di un presepe nella stessa cattedrale tanto per avere appunto dei campioni degli oggetti di tipo diverso sulla pergamena liturgica abbiamo rinvenuto con l'animale sul discorso diciamo della provenienza di queste cose ha detto già la professoressa Piro abbiamo avuto lo stesso problema dall'analisi di standard di cosiddette colle diciamo che non dovevano essere colle di coniglio abbiamo trovato invece contaminazioni di colle diverse su questa scultura linea abbiamo analizzato vedete questa parte qui indicata e abbiamo riconosciuto il collagene della specie Bostarus vedete abbiamo seguito l'analisi non soltanto col Maldi che è lo spettro in alto ma anche con LC MS MS sulla pala d'altare l'assunta del XV secolo sempre nella cattedrale di Altamura che è in provincia di Bari abbiamo riconosciuto tramite lo spettro Maldi queste proteine e naturalmente anche qua abbiamo fatto anche se non le ho riportato ne ho fatto un confronto con lo spettro LC MS MS il presepe monumentale che è in questa cattedrale di Altamura davvero estremamente interessante molto bello abbiamo analizzato alcuni di questi qui ho riportato solo il musicante con viola il particolare dell'ala come qui indicato vedete abbiamo riconosciuto vedete talmente sensibile la tecnica che ci sono tanti segnali dovuto alla cheratina perché questi oggetti sono estremamente manipolati questi presepe sono stati diciamo restaurati spostati più volte e ci sono anche dei segnali dovuti all'enzima quelli indicati con la E la cheratina sono quelli con la K però ci sono vari segnali che vi sono delle proteine e anche con il confronto con le lezioni MS MS abbiamo riconosciuto l'ovalbumina bene sui campioni reali anche abbiamo visto che non c'è una come si dice una variazione perlomeno diciamo con lo stereomicroscopio sulla pergamena abbiamo fatto questo prima del trattamento durante quando il gel è applicato e dopo il trattamento e il risultato è tale da considerare ecco la superficie non alterata detto questo le conclusioni io l'ho chiamato vedete qui quasi non invasivo ci ho messo dei punti interrogativi ditemi voi se non invasivo o quasi non invasivo è stato dimostrato che l'applicazione del gel modificato con tripsina e chimotripsina consente l'identificazione di diverse proteine da stesure pittoriche contenenti vari tipi di legante e di pigmento il protocollo di campionamento davvero è semplice e veloce avete visto bisogna appunto caricare questo gel con l'enzima o gli enzimi e poi metterlo a contatto con il campione con l'oggetto diciamo di indagine l'abbiamo applicato manufatti storici di varie tipologie e datazione adesso quello che è lo sviluppo futuro stiamo cercando di estendere questo protocollo ai leganti di natura lipidica appunto ringrazio certamente il laboratorio di ricerca dei nostri beni culturali che fornisce appunto le attrezzature per queste analisi in particolare quelle che non sono di nostra competenza abbiamo avuto un supporto da questo essa pinto e da questo monno per lo stereo microscorpio e quelle colorimetriche abbiamo anche un centro di spettrometria di massa analitica a quale fanno capo appunto quelle strumentazioni maldi e le si e si ms di cui vi ho parlato e soprattutto in questo centro operano i collaboratori che vi ho detto sono i veri esperti di proteomica e di spettrometria di massa e cioè la professoressa calvano il professor cataldi e fino a qualche tempo fa anche il professor polnisano che come me però è andato in pensione lui l'anno scorso io sono dall'1 ottobre ma diciamo certamente nel passato abbiamo collaborato in questo settore quindi mi piace davvero ringraziare a voi tutti grazie per l'attenzione grazie grazie moltissimo Luigi applicazioni dell'idrogel che veramente appunto come hai sottolineato sono importantissimi per i procedori di pulitura certamente Baglioni ha portato un contributo importantissimo e la capacità appunto che avete avuto poi di estenderlo anche alla caratterizzazione delle proteine non vedo nella chat domande quindi forse probabilmente la cosa migliore è che mi introduca io la mia brevissima presentazione per poi dare spazio a un po' a un dibattito perché come abbiamo visto il tema dell'invasività sta diventando un po' centrale e io vado a condividere lo schermo e penso che si veda eccoci qua allora appunto gli interventi programmati l'ordine praticamente può essere tranquillamente invertito ma insomma qui sono Colombini Artioli Sabatini Sgamellotti Biroletta Accetti io ho appunto questo problema semantico che in qualche modo diciamo l'amletico to be or not to be invasive è appunto è stato un po' già accennato quindi non mi vorrei dilungare vorrei soltanto appunto sottolineare il fatto appunto che per quanto riguarda i materiali proteici appunto abbiamo una serie di tecniche classicamente non invasive come le spettroscopie vibrazionali e le spettroscopie di fluorescenza l'avete sentito metodi chimici non abbiamo non sono stati un po' trascurati ma anche qui il discorso dell'invasività è relativo perché comunque ci deve essere un contatto questa è la diagnostica di primo intervento e poi appunto le prerogative della proteomica sono invece quelle di dare un'identificazione univoca dei legati proteici come giustamente ricordava la professoressa Biro l'identificazione delle metodiche chimiche e direi di rincontro anche della sensibilità che ora praticamente soprattutto con le tecniche di multiple reaction monitoring è a livello di picogrammi e questo non va dimenticato in definitiva però esiste in questo sillogismo perché l'essenza della proteomica è basata come siete sentiti sulla spettrometria di massa ma la spettrometria di massa è per sé una tecnica analitica distruttiva e quindi una spettrometria di massa non distruttiva è in effetti una contraddizione in termini e quindi non invasiva una proteomica non invasiva in qualche modo può essere uno simolo ci ho messo appunto tre punti interrogativi perché appunto questo primo lavoro secondo me che poi ha segnalato il passaggio dalle tecniche diciamo di tipo diretto quelle di tipo diretto oppure in situ come vogliamo dirlo del gruppo praticamente di Matthew Collins il quale praticamente decisamente nel suo articolo sul PNAS del 2015 parla di di fingerprinting tipico non invasivo e lo realizza praticamente appunto sul codice rimuovendo praticamente dal seguendo l'analisi sul tracce di residui di poliestere utilizzata per pulire meccanicamente la superficie e quindi per effetto triboelettrico vengono rimosse delle proteine anche un altro non invasivo successivamente appunto questo è stato introdotto da Righetti il quale appunto ha breve funzionalizzato queste film di polimerici che sono chiamate EVA non sono commercialmente disponibili appunto sono ancora legati al gruppo di ricerca che fa capo ai Fibberstein a Righetti e che appunto rimuove le proteine con non solo proteine ma anche piccole molecole funzionalizzando queste film polimerici con resine a scambio cationico o resine cromatografici abbiamo accennato a questi due titoli praticamente appunto sono state già in qualche maniera illustrate le procedure e le metodologie vedete appunto dal non invasive si passa a minimal invasive o quasi non invasive quindi diciamo ancora una volta sottolineo il discorso di definire un po' meglio questa situazione e questa situazione diciamo dell'invasività in effetti è stata affrontata secondo me in maniera molto molto brillante da questo ricercatore dell'istituto di beni culturali del belga Ian Votos in questo lavoro che pubblicato appunto sulla rivista ufficiale dell'Unione dell'Unione internazionale di chimica pure da applicata che tutta parla di riflessioni sulla posizione della scienza in un approccio multidisciplinare io qui ho inserito anche il link per poter scaricare il documento che vi assicura di una gradevole lettura e ho anche qui praticamente in qualche maniera riassunto alcune di queste riflessioni per brevità non le tralascio arrivando alla conclusione del del discorso di Woters il quale dice appunto che la terminologia usata oggi per descrivere i potenziali danni ai io non riesco a leggere qui ai manufatti artistici causati da una specifica analisi dovrebbe superare il concetto polarizzante di distruttività non invasività e dovrebbe includere dei riferimenti al grado di intervento che può essere definito basso medio alto ma anche è riferito poi alla come dire al livello di eventuale danno apportato al manufatto che potrebbe essere molecolare e quindi diciamo in qualche maniera assolutamente non rilevabile se non appunto per esempio come nel caso che ci ha fatto vedere Luigi Sabatini con XRF a livello microscopico qui naturalmente appunto la di questo microscopico potrebbe essere preso in considerazione a livello visuale ma soprattutto praticamente questi livelli di interventi dovrebbero tener conto appunto del grado di utilità e dell'innovazione che viene portato nel processo di analizione queste considerazioni di voters sono state poi riprese da un articolo pubblicato su Pure and Applied Chemistry da Maria Melo Nevin e Pietro Baglioni in un editoriale appunto fascicolo dedicato proprio alla chimica dei beni culturali e come appunto potete leggere appunto l'uso del termine distruttivo e invasiva crea in effetti una polarizzazione che nascondo essenzialmente ciò che è rilevante ai termini dell'analisi scientifica nella sua utilità e nell'utilità dei risultati e nel grado di innovazione che permette bisogna anche aggiungere il fatto che in effetti questo non è molto accurato dal punto di vista scientifico e in qualche maniera appunto una delle riflessioni che ho salattato e che qui faceva riferimento è il fatto appunto che ci può essere anche un danno al manufatto per effetto di una prolungata esposizione a un fascio di energia piuttosto rilevante quindi alla fine è una questione di terminologia e loro propongono un glossario che tra l'altro in italiano in inglese e in portoghese la nazionalità dei tre autori e in particolare appunto vedete appunto il termine usato distruttivo e viene proposto il termine richiede microcampioni abitualmente utilizzato per descrivere una tecnica analitica utilizzata nello studio di microcampioni ed è incorretto il suo uso perché non fa riferimento all'utilità dei risultati ottenuti né alla pertinenza dell'analisi effettuata e questo può essere appunto veramente complicato per esempio appunto nei rapporti con professionisti dei beni culturali che non sono molto addentro alla problematiche scientifiche e quindi diciamo come già accennava Perra Colombini il termine distruttivo significa appunto pensare a una demolizione o un atteggiamento diciamo in qualche maniera che non è consapevole dell'importanza e della integrità del bene culturale ricordiamoci appunto che integrità è la parola diciamo che ricorre il codice dei beni culturali quindi praticamente è un elemento diciamo che deve tenere bisogna assolutamente tenere conto e tenere presente in tutti questi approcci io mi fermo qui perché appunto mi sarebbe piacere appunto che questo appunto il passaggio il riferimento che faceva al codice dei beni culturali e come potete vedere la conservazione è centrata al mantenimento dell'integrità non so se sono stato molto compresso nella questa esposizione ma non volevo appunto sottrarre del tempo agli interventi che abbiamo programmato e quindi vorrei pregare Perla mi pare appunto se puoi commentare questi aspetti professoressa deve attivare il suo microfono ecco dicevo che ho già ho accennato prima questi concetti invasività che sta per invasione distruttività distruzione sono termini guerreschi in effetti molto brutti in questo nel settore dei beni culturali che non evocano delle buone pratiche debbo dire e quindi è una questione etimologica essenzialmente in realtà che significa perché è venuto fuori distruzione metodo distruttivo non distruttivo è stato fatto probabilmente per diversificare le tecniche al momento tanti anni fa quando abbiamo cominciato a occuparci di conservazione dei beni culturali attualmente sul concetto del minimo intervento così come si fa nella conservazione minimo intervento significa minimo approccio di restauro avere conoscenza e più scienza in modo tale da non fare da non incorrere in errori macroscopici nell'ottica del minimo intervento ma nella massimizzazione dell'informazione si sta anche accettando che il micro campionamento seguito da una distruzione del campione per avere delle informazioni più specifiche possa essere accettabile il problema fondamentale è a che cosa dobbiamo rispondere quindi la nostra fra virgolette distruzione o non distruzione dovrebbe essere correlata alla bontà dell'informazione che si può ottenere con le nostre analisi il il fatto che io mi definisca come ti ho scritto Gennaro distruttiva ma non troppo nel senso che io alla fine se voglio sapere tutti i materiali organici e non solo le proteine che sono presenti in un campione devo avere questo micro campione che sia rappresentativo del dipinto stesso ma che debbo poi in qualche modo manipolare per avere tutte le informazioni contenute dalle sostanze organiche lì presenti ecco che allora questo concetto di distruzione ha poco senso nel senso vuoi l'informazione vuoi che ti dica realmente cosa c'è dentro beh allora sono costretta a fare questo con i mezzi che ho a disposizione vi ho fatto vedere che per superare questo problema si può utilizzare la SIFT o la tecnica in SPM e GCMS il fatto è che di lì si possono ottenere delle ottime informazioni ma non si può ottenere tutto quindi in realtà l'informazione richiesta segue le tecniche che debbono essere applicate per ottenere l'informazione stessa nel caso per esempio della mummia ti farebbe piacere sapere che tipo di pesce è presente in quel caso la proteomica potrebbe dare altri risultati più profondi ma bisogna vedere se l'archeologo ne ha bisogno cioè fino a che punto l'archeologo è disposto ad andare avanti nella conoscenza o è necessaria questa conoscenza beh dipende appunto dal tipo di informazione per definire il il percorso diciamo che è stato fatto nella realizzazione poi di quel anche della cultura tra l'altro dietro no è anche un fatto diciamo riguardante proprio aspetti sociali di quella società di quel periodo insomma quindi sicuramente credo che potrebbero esserci degli ci possono essere degli sviluppi però io ripeto molto sta nella domanda iniziale e nella necessità di raggiungere un risultato e il fine ultimo perfetto vorrei sentire il parere di Gilberto a questo punto sono totalmente d'accordo ovviamente le domande sono fondamentali e le tecniche devono conseguire se posso condividere qualcosa che ho preparato perché volevo introdurre qualcosa di cui non abbiamo parlato oggi che sono i metalli e che portano i concetti sono esattamente quelli che abbiamo discusso con la proteomica ma diciamo che sono portati all'estremo se riesco sì sì stai condividendo la condividendo ma non riesco ad andare avanti adesso vediamo ecco io ho messo questa perché ovviamente di impatto ma non è solo uno scherzo perché purtroppo lavorando con i metalli quando vado nei musei io mi trovo davanti a cose di questo tipo fatte negli anni 40 e 50 con veramente drilling e questa è la ragione per cui non ci danno i permessi di campionare e quando sento il nome campionamento cioè vanno ovviamente fuori di testa allora io ho un bel da dire che quello che io prendo adesso è un pezzettino dentro il bocchetto che non vedono più niente e do molti più risultati di quelli che hanno dato in passato per esempio quella in alto a destra è un'ascia adesso non entro nel dettaglio perché non vi interessa ma un'ascia importantissima di Remedello è stata campionata come vedete nella parte centrale dalla fine dell'ottocento quando è stata trovata poi c'è stato un campionamento quello in basso a destra dai tedeschi negli anni 50 nel progetto di Stockard e poi da un altro gruppo italiano a me è sconosciuto negli anni 90 e incredibilmente non c'è stato niente di pubblicato ok cioè a parte di rame di bruto ecco questa è la cosa cioè non c'è stato niente di pubblicato quindi quando siamo arrivati noi assolutamente noi abbiamo bisogno anche di pochi atomi di spettrometria di massa potrebbe fare i rapporti isotopici del piombo non posso fare nient'altro nonostante tutto c'è stata qualche soprintendenza che ha risposto abbiamo fatto in realtà un progetto molto grosso abbiamo realizzato più di 100 asce con il museo di Bolzano ma una delle soprintendenze mi ha detto no questa cosa la facciamo fare perché si può fare con la fluorescenza portatile e noi un bel da spiegare che la spettrometria di massa nella fordina di isotopici purtroppo con l'XRF portatile non si può fare questi sono in realtà i problemi che possiamo fare allora ci sono tutta una serie di tecniche invasive che tutti voi conoscete molto bene quello che noi abbiamo proposto in maniera totalmente parallela a quello che voi avete fatto con la pronomica è di fare dei micro campionamenti come vedete in un pezzo corroso di questo tipo se io asporto un mezzo millimetro di materiale tutto sommato non credo che l'archeologia ne soffra più di tanto insomma quando metà di questi pezzi vengono trafugati nel mercato nero però in realtà lo che noi facciamo è che con un piccolo microchips noi possiamo dare molte più informazioni che loro possono fare addirittura con il drilling normalmente perché con il drilling loro disturbano completamente tutta la tessitura del metallo perché la modificano con la rotazione termica e quindi noi in realtà con un micro frammento diamo molte più informazioni di quelle che possono dare nel call quindi quello che faccio da un tempo è di divulgare tentento presso i musei e le soprintendenze e far vedere che appunto in risposta alle loro analisi se vogliono alcune informazioni un microchip me lo devono dare se vanno con l'XRF purtroppo l'XRF con i portatile con i metalli è un disastro e ci sono delle ragioni per questo perché i metalli sono particolarmente corrosi inverse patination electrochemical segregation cioè i dati che vengono fuori sono veramente tremendi e questo è un altro problema cioè adesso il museo preferisce prendere l'XRF portatile e fare sparare su tutte le superfici dei metalli ma ci sono una quantità di dati assolutamente senza senso che stanno entrando nella letteratura e sono estremamente preoccupanti questo è un altro aspetto che magari affrontiamo in un altro modo molto bello molto bello grazie a voi in realtà cioè questo è lo stato dell'alte cioè una volta si andava col drilling francesi tedeschi continuano a drillare tra grossi problemi nei musei noi in Italia ormai abbiamo tentato di introdurre il concetto del microcetto molto simile concettualmente a quello che è fatto la economica purtroppo i musei molte volte vogliono l'assolutamente il non invasivo no sensing ma a questo punto hanno non solo delle informazioni molto parziali ma a volte estremamente fuorvianti e ovviamente la maggior parte della gente non sa neanche chi può andare a neutroni o a ion beams come abbiamo sentito per ottenere le stesse informazioni ma qui stiamo parlando del futuro perché quello che io credo il mio messaggio finale è che continui a mancare una grossa interfaccia tra gli utenti finali e chi fa le analisi e ci dovrebbe essere uno scambio comunicativo molto più approfondito che non quello esistente attualmente sì sì no questo è un innanzitutto ti ringrazio appunto per questo contributo tra l'altro molto molto significativo e forse appunto io penso che probabilmente come a valle di questa nostra così conversazione di oggi potremmo eventualmente pensare di racchiudere queste nostre come dire osservazioni in un testo appunto penso che rendi conti dell'Accademia di Lincee potrebbe essere un così rivista autorevole da darci un certo significato ma è un ragione sto facendo un discorso diciamo un po' all'impronta e quindi mi scuso eventualmente poi ci approfondiamo mi pare che nell'ordine c'era Luigia Sabatini ora sì allora riprendo da un ultimo concetto del collega che ha detto che ha detto non sampling non invasivo non sampling cioè non c'è campionamento allora non c'è campionamento vuol dire che anche le tecniche che prevedono appunto il contatto col gel per esempio lì c'è campionamento perché asporto del materiale quindi se lì c'è campionamento appunto non è più nell'accezione attuale non è più non invasivo ma diventa invasivo quindi il vero minimamente invasivo sì sì no d'accordo d'accordo adesso è per fare per mettere due grandi classi poi c'è quello invece dove non c'è contatto e lì non si campiona però c'è scritto se sono raggi X quelli che sono possono essere distruttivi perché possono modificare a livello molecolare la composizione campione allora io vorrei chiarire una cosa se noi diciamo che rispetto a un oggetto d'arte che è un particolare tipo di campione di oggetto da campionare diciamo da analizzare da studiare diciamo da studiare se non si vede il discorso è io posso apprezzare la differenza fra prima e dopo nell'intervento di restauro infatti si fa il minimo intervento perché si fa si fotografa diciamo così la situazione prima lo si fa dopo e si ci sono delle differenze sicuramente nelle opere di pulitura in meglio decisamente o anche nei ritocchi o nelle con le lacune quello che si vuole quando facciamo queste analisi minimamente invasive come diceva Perla cioè in realtà non si può fare se uno documenta prima e dopo io con le analisi superficie vi ho fatto vedere che ciò che può variare è un rapporto azoto carbonio ma che importanza ha rispetto all'oggetto bene culturale cioè mi spiego quando la tecnica che ho utilizzato Perla quella di sniffare le opere d'arte io appunto quando il lavoro che lei ha citato con il quale noi abbiamo verificato la provenienza delle ambre allora c'era un gruppo di rumeni che in un museo aveva una serie di ambre e voleva stabilire se fossero di origine rumena o baltica quindi questo era il requisito archeometrico naturalmente voleva stabilirlo senza distruggere le ambre e quindi non invasivo non distruttivo ok allora noi abbiamo ipotizzato il discorso di scaldare queste ambre che poi erano pezzettini ma potevano essere contenuti alcuni anche in ampolle più grandi e ovviamente ma insomma le ambre non sono mai molto molto grandi come dimensioni e analizzare lo spaccio di testa e abbiamo trovato degli incredibili markers in quelle con la gasconotografia nelle in quelle rumene che non c'erano cioè in quelle balte che non c'erano in quelle rumene quindi molto semplice poi la distinzione però allora è chiaro che abbiamo modificato la composizione perché perché abbiamo accelerato la perdita dei componenti non volatili ma questa perdita ci sarebbe comunque come perla dimostrato perché lì senza scaldare nulla ma tenendola a contatto per più tempo comunque vengono diciamo estratti questi questi gas queste specie volatili allora io mi dico se l'analisi di quell'ambra se avessi diciamo il contenuto dei gas delle componenti volatili scusate è cambiato ma cambierebbe comunque cioè fra due mesi sarebbe diversa allora adesso dove non c'è una questo voglio dire non c'è un film di tutto ciò che c'è prima e che poi dopo l'analisi per quanto minimamente invasiva capire come dopo ecco perché c'è la difficoltà di distinguere fra invasivo non distruttivo e io sono convinta che dobbiamo arrivare a un linguaggio comune sono ansiosa di leggere appunto c'è quell'articolo vi confesso non l'ho ancora letto non ho avuto proprio il tempo materiale per una serie di problemi anche familiari di farlo però diciamo c'è la necessità veramente di arrivare a un linguaggio comune poi o da uno punto di vista quando io scrivo quasi non invasivo il lavoro viene non solo accettato ma soprattutto viene reso noto alla comunità scientifica io sono contenta comunque che lo chiamiamo quasi non invasivo o minimamente invasivo rimane un problema appunto semantico ma non sarebbe male arrivare onestamente a un linguaggio più uniforme ok tutto qua grazie grazie molto Antonio Sgamellotti appendiamo dalle tue labbra no eh quanto possiamo invadere la c'è il pericolo che potreste rimanere appesi perché eh io sono nato come non invasivo ma il motivo è che fui scioccato a vedere i i micro i campionamenti che erano stati fatti all'epoca quando ancora era possibile in un dipinto piccolo e stupendo come la tempesta del Giorgione lì chiaramente erano stati fatti che erano permesse delle cose che non avevano nessun segno io tra l'altro eh eh per l'origine delle della mia formazione per la formazione del MOLAB e così via associo le due parole chiave non invasività e insidio ed è un fattore semantico e e per me questo è molto importante io sto eh dando molto importanza alla semantica perché veicola un messaggio che deve essere quello corretto che non deve essere frainteso per esempio io sono contrario a dire che si fa il terzo di piano adesso e che si fa la terza dose si fa un richiamo perché la terza dose lascia presupporre che ci sarà una quarta una quinta da già un'accezione che è negativa così come quando si dice il farmaco generico non è il farmaco generico è il farmaco equivalente se uno vuole essere corretto dal punto di vista semantico e questo no per cui non ho mai utilizzato la parola distruttivo per me non esiste dare un concetto così negativo il problema è servono tutte le informazioni in alcuni casi servono quelle informazioni e allora dovremo andare necessariamente al micro campionamento e e potrà il campione il micro campione potrà essere anche strutto tra virgolette non più utilizzabile in alcuni casi potrà essere conservato e riutilizzato io ho un esempio di micro campionamenti su fatti dall'obiettivo delle vie di verdure su tanti i dipinti di Raffaello inglobati e così via che poi abbiamo riutilizzato a distanza di tanti anni è una questione semantica ma anche culturale la mia esperienza per esempio io ho fatto delle indagini sui codici messicani preispanici tredici rimasti al mondo tutti gli altri distrutti questa volta la parola distrutto va bene per noi europei quando è il caso e così via ma in questi di questi tredici nessun conservatore anche il più aperto ti farà mai nemmeno spostare il 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 manoscritto perché è troppo prezioso anche così dal punto di vista proprio del significato stesso non solo ma anche quando è stato permesso di andare con tecniche non invastiche abbiamo dovuto adattare la disposizione del manoscritto alla tecnica che stavamo utilizzando perché fosse la meno diciamo la disposizione fosse la meno invasiva possibile quindi è anche un fattore culturale tra l'altro io credo che come ha dimostrato la perla e così via le ricerche debbano andare avanti per quanto riguarda i micro prelievi ma debbano andare avanti anche per quanto riguarda le tecniche cosiddette non invasive perché tutto sommato sono tecniche abbastanza recenti e io sono sicuro che alcune risposte per quanto riguarda la stratigrafia non per quanto riguarda le sostanze organiche e tutto quello che è contenuto potrà essere data con tecniche che c'è problemi con la segreteria quindi bisogna bisogna fare un lavoro dal punto di vista culturale essere corretti dal punto di vista semantico e mai essere troppo talebani tra l'altro tra l'altro no perché in alcune occasioni qualcuno lo è troppo e porsi sempre la domanda ma queste tante informazioni che noi stiamo dando servono a che cosa servono servono per la conoscenza servono per il restauro io sono convinto che in molti casi bastano poche necessarie informazioni per un restauro corretto che almeno quelle ci siano ma vedi e poi sono contrario anche all'utilizzo di tecniche sofisticate che servono soltanto in alcuni casi a fare delle belle foto delle belle immagini per pubblicare per esempio i sincrotroni va benissimo utilizzarli ma ci sono casi se io voglio vedere lo stato d'ossidazione di un oione è chiaro che potrò potrò e dovrò usare il sincrotrone ma ci sono molti altri casi in cui questo non è necessario si va a svarare con una tecnica troppo troppo complicata con costi dobbiamo tener conto anche dei costi per quanto riguarda questo utilizzo quindi ho l'impressione che è necessario fare un compromesso tra tutte le cose e soprattutto il campione che andiamo a utilizzare deve essere rappresentativo quando mi si dice in quest'opera d'arte e contemporanea molto spesso ho preso un campione che era caduto io dico ma non mi interessa perché quello non sarà affatto rappresentativo dei problemi che voglio risolvere grazie no no ma in effetti mi pare che proprio quel quadretto riassuntivo che ho mostrato nell'ultima slide in cui praticamente l'intervento tu lo devi graduare in relazione alle risposte che vuoi è in relazione alla eccolo sì allora ora c'è Leila Biro grazie poi Francesco Taccetti stiamo un po' in ritardo quindi vi prego degli interventi piuttosto bene allora stavo parlando in quel momento io sarò molto lei la non si sente adesso si vai vai ok condivido pienamente tutto quanto detto credo che appunto come ha messo in evidenza Artioli noi paghiamo lo scotto poi di quelli che sono stati anche degli interventi molto invasivi fatti in precedenza credo che in realtà il fatto stesso che le nostre metodologie stanno tendendo verso una sempre minore impatto sulla chiamiamolo così sull'opera d'arte o sul reperto siano nella giusta direzione e anche per esempio mi rifacevo alla storia delle mummie che Perla mostrava questa metodologia che le ha messo a punto mi sembra estremamente poco aggressiva da tutti per tutti penso a questo punto se si vedrà in un domani che è una caratteristica quella del pesce presente in più campioni ce ne sarà pure una che potrà essere sacrificata perché a volte c'è uno scontro una rigidità mentale casomai i musei i depositi di musei pieni di campioni ma tu che non non saranno mai guardati da nessuno però non possono essere toccati quindi probabilmente è vero che bisogna essere corretti semanticamente però anche un po' di elasticità mentale nel confronto e nella decisione di ciò che si deve fare e ciò che non si deve fare sarà il nostro il nostro favore e con questo concludo grazie grazie lei la no breve succinta e compendiosa come diciamo allora Francesco a te la parola e vogliamo sentire anche diciamo come responsabile del network degli NFN che cosa ne pensi grazie mille credo ci sia poco da aggiungere perché concordo grosso modo con tutti e tengo a precisare che anche a mio avviso come diceva Antonio ora ultimamente è inutile andare con i cannoni i cannoni si usano quando servono per andare a fare la notizia e la mia ostia sono perfettamente d'accordo con altri problemi della rappresentatività come sono d'accordo sul fatto che probabilmente noi come soggetti che conosciamo cosa serve per fare la misura d'accordo bisogna anche mettere in grado il restauratore il conservatore il conservatore di capire no quale è il grado di chiamiamola così invasività che possiamo fare e magari dire al conservatore il restauratore come diceva Antonio che talvolta è meglio non fare una misura piuttosto che fare una misura su quello che vogliono loro che magari non rappresenta nulla perché a me spesso e volentieri mi è capitato questo tipo di situazione tra le altre cose noi abbiamo delle fantastiche tecniche ora ve lo dico più distruttive che c'è poco da fare tutte le tecniche di datazione diretta sia carbonio 14 sia termonuminescenza quelle sono forzatamente distruttive chiaramente se lo storico dell'arte decide che vuole sapere una data per cui che non riesci a conoscere perché non ci sono diciamo non c'è nessun tipo di documentazione esatto non c'è nessun tipo di correlazione francesco alzi il volume per favore sì sì certo questa volta mi stava fermo addirittura incredibile e dicevo che non c'è se queste misure vanno fatte si fanno chiaramente nel senso noi si dice a che cosa il conservatore il restauratore o storico dell'arte va incontro cioè io mi sono trovato a fare delle misure sul papiro dal temidoro dove mi davano dei pezzi e sinceramente avevo dei grossi dubbi che potessero essere rappresentativi perché ti danno l'angolino in fondo e dice nel senso io ti misuro questo però può mi pubblicare qualche cosa che dice che insomma diciamo il livello è questo credo che sia sicuramente in carico nostro far capire quello che generiamo chiamiamolo in maniera brutta come danno all'opera nel caso che si voglia fare una misura che richieda un prelievo credo anche che e voglio essere molto positivo nel tempo sicuramente a partire dai centri di restauro ma anche da tutta un'altra serie di musei iniziano a esserci delle persone particolarmente illuminate che iniziano a prendersi conto che talvolta queste operazioni possono essere esatto importanti sì quindi io concludo qui vi ringrazio ancora tantissimo tutti grazie 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 moltissimo io credo appunto che questa nostra momento diciamo di coinformazione e consentitemi di riflessioni se è stata importante ciò di ringraziamenti da avere qualcuno che ha partecipato che estendo a tutti i relatori io non c'ho domande d'altro veramente è tardi quindi penso che dovremmo in qualche maniera ora chiudere il nostro workshop non mi resta che ringraziare moltissimo i relatori molto i partecipanti sono stati abbastanza numerosi e ringrazio poi la segreteria dell'accademia per l'importante supporto che ci ha dato ne approfitto per dire che la registrazione dell'evento sarà disponibile tra qualche giorno sul sito dell'accademia www.academicxl.it perfetto grazie moltissimo arrivederci grazie ciao grazie arrivederci ciao 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 questa bella manifestazione ciao 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 ciao